vado a introdurvi il il tema della giornata oggi parliamo della violenza nei confronti delle donne con disabilità un tema estremamente delicato che sarà affrontato quest'oggi da una serie di splendide relatrici tutte donne che andranno ad impreziosire questo nostro incontro con i loro interventi e moderatrice di questa giornata sarà la dottoressa piera nobili architetta e presidente cerpa italia onlus centro europeo di ricerca e formazione dell'accessibilità buongiorno dottoressa nobili e benvenuta e lasso a lei la parola e buon lavoro a tutti grazie innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti e grazie di essere qui in molte vedo molte persone collegate l'odierno seminario è realizzato come già accennato chiara nel precedente intervento è realizzato nell'ambito del più ampio progetto disabilità la discriminazione non si somma si moltiplica infatti parleremo di discriminazione multipla un'iniziativa ideata e promossa dalla federazione italiana per il superamento dell'handicap fish ed è economicamente sostenuta dal ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto che punta al contrasto delle discriminazioni multiple e alla diffusione della cultura dell'inclusione e delle pari opportunità affronta questo tema tramite cinque comunità di pratica che hanno coniugato appunto la discriminazione multipla con scusatemi sono dimenticata di spegnere il telefono che appunto con queste cinque comunità di pratica hanno coniugato la discriminazione multipla con le donne con gli immigrati e le immigrate con i minori e le minori con gli anziani e le anziani e con l'orientamento sessuale ciascuna comunità di pratica è stata luogo di scambio e di confronto dove condividere appunto conoscenze ed esperienze e questa cosa ha dato luogo a strumenti informativi e formativi di tutela e promozione dei diritti un lavoro quindi come si può capire anche da queste poche parole un lavoro complesso capillare ed estremamente importante per tali motivi sento di dover ringraziare senza nessuna retorica la fish per prima per l'ideazione e il sostegno dato alle cinque comunità di pratica il ministero per averne riconosciuto e compreso l'importanza e per il presente seminario l'intero gruppo della comunità di pratica donne con disabilità che appunto con generosità ha lavorato fornendo contributi preziosi vorrei nominarle tutte e sperando di non dimenticarne nessuna credo che questo sia dovuto perché l'impegno è stato ampio e le persone le donne che hanno partecipato a questa comunità sono rita barbuto luisa bosizio fazzi daniela bucci sarà carnovale nunzia coppedè simonetta cormaci silvia cutrera stefania dondero martina gerosa marta mearini maria cristina schiratti lucia piscioneri e buon ultima anche la sottoscritta infine un ringraziamento particolare va la nostra responsabile di progetto che è stata ed è tuttora simona lancioni è stata anche una coordinatrice paziente e competente oltre che attiva e lavoratrice di contributi a cui passo la parola per un breve saluto mentre accende il microfono ve la presento molto velocemente è sociologa responsabile del centro informare un h di pecioli che in provincia di pisa per chi non lo sapesse lancioni segue organizza le attività del centro che eroga servizi di consulenza mette a disposizione materiale documentario e realizza eventi divulgative inoltre da anni cura la sezione dedicata alle donne con disabilità una sezione appunto molto ricca di materiali a cui tante di noi hanno attinto in questi anni e anche di molti articoli molti dei quali scritti da lei stessa prego simona te la parola il microfono simone accendi il micro ecco ora mi sentite ok grazie che era velocemente anche io ringrazio la fish per questo per questo progetto e anche per avermi affidato per la fiducia accordata mi nella fidarmi la conduzione della comunità di pratica delle donne con disabilità ringrazio anch'io le donne della comunità di pratica perché come ha sottolineato Piera è stato un lavoro collettivo dove donne disabili e non hanno investito professionalità competenze ed esperienze abbiamo prodotto come comunità di pratica nel sentire parlare diversi strumenti quindi quello che mi senti di dire sono stati infatti per essere utilizzati utilizzateli e l'ultima cosa velocissima il problema delle multidiscriminazioni è un problema complesso perché possa cambiare qualcosa deve diventare un tema condiviso più ampiamente condiviso quindi la mia richiesta è non limitatevi a ascoltare quello che viene detto oggi e ad aderire idealmente investiteci un po' di tempo e di lavoro perché solo così potremmo potremmo cambiare le cose ho davvero finito grazie tante a Piera che ringrazio anche per aver accettato questa questa di coordinare questo seminario e buon lavoro a tutti e buon ascolto grazie Simona grazie veramente allora presento molto brevemente le attività appunto che sono state collettivamente realizzate all'interno di questa comunità di pratica e che hanno sviluppato appunto come già accennava Simona alcuni strumenti il primo strumento è un kit rivolto principalmente ma non solo a donne con disabilità famiglie e associazioni il kit presenta brevi e facili presentazioni dei temi più salienti riguardanti la discriminazione multipla è un prodotto appunto agile e di rapida consultazione che si può appunto scaricare dal sito di fish sarà pubblicato a breve si parlava prima fra una circa una settimana anche una traduzione dei testi in linguaggio facile da leggere ve lo mostro molto rapidamente si tratta di questo lo vedete spero è un appunto un testo di poche pagine sono in tutto una ventina e ci sono sei iscritti sei sette iscritti all'interno dove appunto si fa un'introduzione al tema della multidiscriminazione ci sono le diverse forme di discriminazione c'è l'accessibilità si parla di accessibilità e sicurezza in prospettiva di genere l'accesso ai servizi sanitari e la salute e alla riproduzione la violenza contro le donne con disabilità e il protagonismo delle donne con disabilità oltre a tutta una serie di proposte per contrastare le multidiscriminazioni e si conclude con il quadro teorico di riferimento del del diciamo del del tema trattato in questo in questo breve kit eccomi di nuovo qua scusatemi e il secondo invece riguarda i tools che hanno prodotto la formazione in a distanza dal titolo la violenza nei confronti delle donne con disabilità si articola questo questo corso formativo con dieci moduli che verranno appunto realizzati a distanza sono registrati e possono essere visualizzati e seguiti a partire da oggi sino al 31 di dicembre il corso in questo caso è rivolto principalmente ma non solo è rivolto a tutte e a tutte le persone interessate è rivolto comunque principalmente a operatrici e assistenti di settori e si propone di fornire strumenti teorici e pratici utili ad affrontare le diverse situazioni in cui le donne con disabilità che hanno subito violenza si possono trovare nello stesso periodo sempre all'interno della comunità di pratica in seno alla comunità di pratica sono stati realizzati anche altri due percorsi che integrano ed ampliano il lavoro svolto il primo riguarda l'avanzamento del progetto vera praticamente alla seconda edizione questa che è agito è stato agito tramite l'invito a compilare un questionario d'indagine sul tema della violenza un questionario rivolto alle donne con disabilità indipendentemente comunque che abbiano subito violenza o meno all'interno di questo percorso oltre al questionario è stato realizzato anche un secondo percorso che riguarda la raccolta invece di storie di vita tramite interviste narrative alle donne con disabilità quindi venendo al seminario odierno ho fatto una breve presentazione del lavoro che abbiamo appunto realizzato con questa comunità di pratica e venendo al seminario odierno questo è articolato in tre posso chiamarle sezioni sessioni di tre relazioni ognuna alla termine di ogni sezione ci sarà uno spazio per domande considerazioni riflessioni che vorrete porre con le modalità che spiegava appunto prima chiara scrocco e di che cosa parleremo affronteremo i vari temi tramite la lettura intersezionale della disabilità con l'essere donna una condizione questa che ha un effetto moltiplicatore sulle disuguaglianze e sulle discriminazioni subite affronteremo in particolare l'empowerment l'autorappresentanza e la partecipazione attiva alla politica delle donne con disabilità nonché l'accesso ai servizi di ginecologia e ostetricia parleremo di violenza di giustizia e diritti nonché di comunicazione inclusiva. Quindi a questo punto passo direttamente la parola alla quale chiedo nel frattempo di accendere il microfono e il video passo la parola a Maria Rosaria Duraccio che vi presento brevemente è sociologa esponente di DPA Italia Onlus e di Ennil Italia European Network on Independent Living Lavora nel campo della difesa e tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità con responsabilità direttiva e in forma volontaria in varie associazioni locali regionali e nazionali occupandosi di tutti i settori dell'integrazione sociale dei diritti umani e civili e delle pari opportunità. Il suo intervento ha il titolo l'empowerment delle donne con disabilità tramite il quale affronterà il tema della discriminazione multipla nei differenti ambiti di vita individuando gli strumenti che consentono alle donne con disabilità di autodeterminarsi tramite il processo di acquisizione di consapevolezza di sé, il famoso empowerment, nell'intersezione appunto tra genere e disabilità. prego, a lei la parola. Maria, eccola. Buongiorno a tutti, innanzitutto un ringraziamento alla FISMA, a tutto il gruppo del quale sono veramente contenta e felice di far parte perché per chi non mi conosce io stessa sono una donna con disabilità che ha fatto un particolare processo, insomma, percorso di empowerment per raggiungere una condizione, io sono una mamma, una moglie e un'attivista, quindi tutto questo non è stato semplice, non è stato facile affrontare e portarlo avanti, però grazie proprio allo strumento dell'empowerment di cui vi parlerò, in qualche modo questo ha favorito, il mio, la mia emancipazione e quindi ringrazio per avere la possibilità anche di trasmettere quella che è la mia personale esperienza. Dunque, iniziamo subito. Io ho preparato delle slide proprio per evitare di uscire fuori dai tempi, però volevo capire... Ah, ecco, funziona. Scusate, ma ho un problema di schermo. Un attimo solo... Volevo... Volevo capire perché vi ho qua e quindi io non riesco a vedere le slide. Se qualcuno mi dice come togliere la barra... Ah, eccola. Ok, perfetto, scusate. Dunque, quando siamo di fronte ad un trattamento non paritario nei riguardi di un individuo o di un gruppo di persone che hanno delle caratteristiche diverse, noi siamo davanti ad una discriminazione. Come agisce la discriminazione? La discriminazione è una pratica che purtroppo riduce la possibilità di partecipare e quindi la possibilità proprio di partecipazione sociale, politica, economica delle persone nella comunità. Quali sono le caratteristiche? Come facciamo ad individuare che cos'è quando siamo davanti ad una discriminazione? Le caratteristiche essenziali sono il trattamento particolare, quindi il fatto di essere trattati in maniera diversa rispetto agli altri, è un'assenza di giustificazione di questo trattamento per cui non c'è una motivazione di base. Come la discriminazione agisce sulla società e quindi sugli individui? Le discriminazioni hanno tutta una forma comune e cioè trattare le persone in modo differente solo per il fatto di avere delle caratteristiche diverse, e nello specifico la disabilità. Il risultato qual è? È proprio l'indebolimento della parità di opportunità e di trattamento, cioè proprio un vero e proprio perdita di autostima, a noi piace dire. Quindi che cosa fa sulla società? Innanzitutto rafforza quelle che sono le disuguaglianze, restringe le libertà delle persone, la loro capacità di progettare, di avere aspirazioni, ma soprattutto nega la capacità di competenze generando un senso di umiliazione e di frustrazione. La discriminazione è la condizione per cui appunto un individuo attribuito un disvalore, quindi comunque una condizione negativa e tale condizione purtroppo composta per chi la subisce l'impossibilità di esprimere pienamente le proprie capacità e quindi soprattutto la capacità di sviluppare le proprie potenzialità. In sostanza che cosa abbiamo in presenza di una discriminazione? Abbiamo un danno soggettivo dovuto al fatto che non si è riconosciuti come persone degne e con possibilità di esprimere le proprie potenzialità, ma anche una perdita sociale che insomma per il fatto stesso di impedire alle persone di partecipare e quindi di un certo senso dare un loro contributo alla comunità stessa, quindi un doppio danno. Il genere è sicuramente una delle categorie più importanti nell'organizzazione sociale, ma anche una delle categorie sul quale appunto ci sono forme di discriminazione. Questa poi, quando va ad intersecarsi con la disabilità, diventa veramente deleteria. Perché? Perché la differenza di genere si trasforma in disuguaglianza quando appunto le donne non hanno accesso alle risorse allo stesso modo degli uomini. dall'altra parte la condizione di disabilità si trasforma in disuguaglianza quando le persone con disabilità non hanno accesso alle risorse allo stesso modo degli altri individui e questo a prescindere di essere uomini o donne. La loro intersezione è quella che noi chiamiamo discriminazione multipla, perché appunto oggi una donna con disabilità viene discriminata e perché persona con disabilità è perché donna, quindi potete immaginare come va a moltiplicarsi. Storicamente c'è stato un gap a livello di movimenti per quello che sono state le lotte civili. Da una parte abbiamo avuto il movimento delle persone con disabilità, che ancora oggi non introduce la questione di genere. Cioè, parliamo ancora di leggi delle quali si parla generalmente di persone con disabilità, ma senza distinguere la differenza di genere. Cioè senza introdurre la questione di genere. Dall'altra parte, proprio il pensiero femminista continua ad ignorare e ad escludere le donne con disabilità. E questo probabilmente proprio perché il movimento delle persone con disabilità, in un certo senso, è stato troppo generalizzato. Eppure di tutte le persone con disabilità, più della metà sono donne con disabilità. Quindi questo dovrebbe, ecco, farci riflettere tantissimo. Scusate se ogni tanto perdo fiato. Come sono discriminate? Cioè, come agisce la discriminazione multipla sulle donne con disabilità? Scusate, sento... Qualcuno ha aperto il microfono. Scusate se potete spegnere il microfono durante gli interventi. Allora, poco fa, il consulente del ministro Speranza, il professor Ricciardi... Lo sentite anche voi? Ad Elessandri dovrebbe averlo aperto. Ad Elessandri? Mi scusi, Ad Elessandri? Probabilmente non si è accorto. Quindi, secondo me, l'amministratore dovrebbe poter riuscire a disattivare il... Esatto. Un attimo che stiamo risolvendo l'altro problema e non è... Fatto, disattivato. Ecco, ecco. Perfetto. Allora, come agisce la discriminazione multipla sulle donne con disabilità? Agisce in tutti gli ambiti sociali, istruzione, lavoro, diritto alla famiglia, salute. E soprattutto, e spesso, purtroppo, nella violenza e nell'abuso. Perché? Perché per le donne con disabilità è molto alto il rischio di violenza fisica. Per il fatto che siamo viste come un target facile. E vi posso assicurare che è molto più di quello che è possibile immaginare, in quanto per esperienze proprio personali e non dirette, ma vi assicuro che la violenza che le donne con disabilità subiscono è anche una violenza invisibile, difficile da percepire, difficile da cogliere. Perché spesso è anche inconsapevole la persona che te la... Insomma, che te la... Che te la fa. Un attimo, che spesso... Ecco qua. Allora, quali sono le conseguenze di questa discriminazione? Sicuramente le conseguenze sociali sono dovute al fatto che le donne con disabilità sono del tutto invisibili, cioè non hanno visibilità. Ad esempio, non esistono statistiche sul fenomeno delle donne con disabilità non sono mai comprese proprio nelle statistiche che riguardano le donne in generale. Debolezza, frammentazione, vuoti nelle politiche di welfare nei confronti delle donne con disabilità. Infatti, ecco, anche come dicevo prima, nelle... Abbiamo perso la connessione con Chi era? Proviamo a vedere se riesce a... Io non sento più niente. No, io ci sono. È Rosaria Duraccio che ha perso la connessione. Sì, con Rosaria. È Rosaria che non... Sì, non c'è più. Aspettiamo che rientri. Scusatemi, io la vedo, solo che... Sì, ma è bloccata. Esatto, ha il microfono spento e non c'è più la condivisione delle slide. Sì, è bloccata. Rosaria, se mi senti, prova a riaccendere il microfono intanto. Mi sa che deve uscire e rientrare. Forse devi uscire e rientrare, Rosaria, se mi senti. Se qualcuno ha il numero, la può contattare, mandandole un messaggio. Scusate, se esce... Sono Vittoria Duretti, buongiorno. Vedevo che... Buongiorno, Vittoria. Riescono a rientrare, quindi attenzione ad uscire, perché proprio per il numero di partecipanti così alto non riescono ad entrare, ecco. Se esce, quindi potrebbero rientrare. Sì, ha ragione, Vittoria. Zoom ci ha avvisato che c'è un problema tecnico questa mattina e probabilmente ci manderanno una stanza sostitutiva per ovviare a questo problema che ci stanno bloccando gli ingressi. Quindi proviamo a continuare qui noi e a breve vi manderemo un link, gentilmente, se possiamo spostarci in una stanza che abilitano in modo che funzioni tutto e possano entrare tutti. Per il problema della connessione però di Rosaria, se lei è caduta non possiamo fare niente, quindi chiederei a Piera se vuole intanto intervenire lei o andare avanti con le presentazioni. Allora adesso vedo che Rosaria è nuovamente collegata e si vede. Se accende il microfono probabilmente la riusciamo anche a sentire. Se riattiva il suo microfono. Maria Rosaria riesci a riattivare il tuo microfono? Sta chiedendo aiuto a qualcuno, credo. Altrimenti possiamo passare alla seconda relatrice che è Francesca Stella e Maria Rosaria la recuperiamo dopo a partire dal punto in cui si è interrotta. Sì, possiamo fare così. Francesca, puoi andare avanti tu. Allora ti presento molto brevemente. Scusate, riaccendo anche la videocamera. Allora, è formatrice nazionale di Easy to Read, è leader degli autorappresentanti di Anfas Udine ed è componente della Piam, piattaforma italiana degli autorappresentanti in movimento. Svolge attività di volontariato presso l'associazione Anfas Onlus Udine e ha partecipato a diversi progetti, quali Accorciamo le distanze sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, progetto Diversamente DOC, Gruppo Accessibilità. Il titolo della sua relazione, la vedete già condivisa, ci sono anch'io, la parola di una donna con disabilità intellettiva e la sua comunicazione mostrerà un esempio appunto di empowerment, meglio, di consapevolezza di sé e di essere soggetto politico, illustrando il percorso sviluppato nel progetto Io Cittadino, ideato da Anfas nazionale, illustrando le finalità di questo progetto, nonché le ricadute positive che questo ha avuto. A te la parola, Francesca. Grazie. Prima di te, io adesso io mi presento. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Francesca Tella, ho 87 anni, faccio parte dell'Aufas di Udine, sono anche un formatrice nazionale e legge di prova e faccio il sito che si fa faccia da leggere. Sì, è la mia foto. Il progetto di Io Cittadino è un paio di anni fa Anfas nazionale ha fatto... Avanti con le diapositive. Grazie. Ecco, vabbè, il prometto. Io vado avanti, eh. Un paio di anni fa Anfas nazionale ha fatto un progetto che si chiamava Io Cittadino. Ecco, questo progetto Anfas ha voluto aiutare tutte le persone con disabilità intellettiva a capire come poter diventare autosapestitanti e a capire come far rispettare i propri titolini italiani. essere autosapestitanti vuol dire che le persone con disabilità intellettiva si rappresentano in prima persona e spiegano ai miei altri ciò che definiranno. In questo progetto, io sono la leader della adottazione di Udine e sono anche le carte della piattaforma nazionale. in Italia ci sono 11 autosapestitanti che sono i leader locali che fanno parte della PIA. I autosapestitanti sono persone con disabilità intellettiva che parlano per se stesse dei loro diritti, dei loro desideri e delle loro opinioni. Parlano della situazione ma anche della politica gli argomenti che li riguardano come ad esempio l'inclusione lavorativa, l'inclusione scolastica e della vita quotidiana e anche indipendente. Io ho un motto di autosapestitanti dei libri di segnere, libri di partecipare con l'infanzio di scambiare il mondo. La mia idea oggi voglio parlare di un'idea che ho avuto per la mia associazione in priori di l'assessoria. Ho un solo gruppo di autosapestitanti che è quella dell'Alfa di Udine. Io ho pensato di creare un gruppo di autosapestitanti regionali. e voglio fare questo gruppo per aiutare le altre associazioni a fare locali F2C e a creare il loro gruppo di autosapestitanti. e voglio fare quel gruppo sezionare anche per poter parlare direttamente con la regione F2C delle cose che si guardano e la disabilità come per esempio le polizie sezionari e nazionali sulla disabilità io ho messo anche il lupo nella mia regione e il funzione qua sto un lupo qua va beh io penso che adottare le persone con disabilità intellettiva che è molto importante perché abbiamo tante cose da dire e vogliamo definire i nostri diritti la mia voce è pronta se volete le domande quindi io ho finito grazie Francesca grazie le domande verranno poste alla fine delle altre due comunicazioni quindi rimando a dopo eventuali domande anche in merito alla tua presentazione ora ridarei la parola la parola a Maria Rosaria Duraccio chiedendole di riprendere dal punto in cui è caduta la linea quindi prego Maria Rosaria se vuoi riattivare l'audio e ricondividere lo schermo noi siamo pronte grazie eccomi mi sentite? sì sì ti sentiamo ecco meno male giusto un attimo che riprendo le slide spero che non siano proprio quello il problema allora cerchiamo di ritrovare il filo quindi dicevamo che la discriminazione in qualche modo impoverisce le persone ed in particolare le persone con disabilità ehm nel corso proprio della storia hanno sempre subito questa discriminazione rendendoli veramente ehm eh powerless cioè rendendoli veramente incapaci eh di progettare se stessi ma come facciamo noi a combattere la discriminazione? quali sono gli strumenti eh importanti quelli che veramente eh possono ehm combattere la discriminazione? sicuramente lo strumento principale è l'empowerment l'empowerment io vado anche un po' a braccio adesso per evitare insomma eh problematiche l'empowerment è quel metodo quel concetto che ha permesso di legare ai diritti umani il modello sociale di disabilità e quindi a fatti eh che fosse innescata quella importante rivoluzione culturale portata avanti dalla convenzione ONU su diritti delle persone con disabilità dopo la quale finalmente le persone con disabilità non devono più rivendicare un proprio bisogno ma piuttosto è stato il punto in cui le persone finalmente possono rivendicare e lottare per avere i propri diritti e questa mi sembra una cosa non di poco conto in quanto il bisogno è qualcosa di specifico è qualcosa di individuale il diritto è universale il diritto riconosciuto vale per tutti a prescindere dalla razza dalla condizione e dal insomma e da quella che è la propria che è il proprio genere le persone con disabilità quindi proprio a causa della condizione di segregazione ed esclusione in cui la storia le ha sempre confinati sono persone che non hanno un'alta autostima di te che non pensano di poter modificare o perlomeno influenzare gli eventi che li riguardano se non in maniera marginale e che quindi vivono una condizione di passività radicata e di mancanza di potere in sostanza vivono la propria vita come incapaci di evolversi incapaci proprio di svilupparsi e perseguono generalmente strade che sono già segnate da altri accettano tutto in maniera critica cioè è così questa è la situazione sono nata così e questo è il mio destino quindi con un destino appunto predeterminato ma vediamo cerchiamo di capire proprio in maniera molto rapida che cos'è l'empowerment empowerment indica acquisizione di potere e quando noi parliamo di potere non parliamo di un potere di sopraffazione o di eh di superiorità parliamo proprio del potere di io posso che io stessa contraddico sempre cioè metto sempre contro il io non posso queste due parole sono fondamentali perché posso assicurarvi che per una buona parte della mia vita eh e in particolare nella parte adolescenziale io sono mh cioè ho sviluppato la mia la mia personalità con questa parola io non posso io non posso fare questo io non posso fare quello fino al punto in cui mi sono chiesta ma perché io non posso cos'è che vieta a me di fare le cose come gli altri e da quel momento che è scattato il processo di empowerment perché appunto l'empowerment è prima di tutto un processo è prima di tutto all'inizio di qualcosa che ti porta ad acquisire sempre di più consapevolità eh conoscenza e e capacità e competenza ma chi è che fa l'empowerment cioè da dove eh come fa a scattare l'empowerment l'empowerment sicuramente eh non è fatto essenzialmente da professionisti generalmente il primo approccio quello individuale viene fatto da persone che in qualche modo hanno raggiunto un certo livello noi li chiamiamo consulenti alla pari cioè persone che sono riuscite a ehm eh hanno fatto un'esperienza di di vita autonoma di vita indipendente insomma eh di di progresso e trasmettono questa loro esperienza ad altri e quindi danno fiducia agli altri eh i quali si pongono siamo nella condizione di chiederti ma se lei ce l'ha fatta ce la posso fare anch'io questo meccanismo che è un meccanismo individuale ovviamente da chi deve essere fatto non può essere fatto dagli uomini dagli uomini con disabilità non può essere fatto da chi non vive questa condizione ma deve essere fatto da noi stessi e per quello che io stamattina proprio per non rubare troppo tempo ci tengo a dire questa cosa è molto importante che noi donne con disabilità come stiamo facendo stamattina ci uniamo sempre di più e lavoriamo tanto sul territorio affinché il nulla su di noi senza di noi che viene tanto promosso a livello di movimento delle persone con disabilità diventi anche delle donne non dobbiamo più permettere che altri decidano per noi e sviluppano e prendano decisioni per noi quindi dobbiamo chiudere dobbiamo in qualche modo chiudere quel gap che si è creato anni fa quando il movimento femminista e il movimento delle persone con disabilità hanno escluso noi da tutto il discorso politico e socio politico della nostra cultura della nostra società e altri strumenti che favoriscono l'empowerment scusate se sono insomma se sto un po' stringendo però mi rendo conto anche dei tempi altri strumenti importanti sono sicuramente il concetto di vita indipendente è un concetto che è ampio che è veramente ampio perché è riconosciuto innanzitutto da un articolo della convenzione che è l'articolo 19 e che è in qualche modo l'articolo portante di tutta la convenzione stesso l'articolo 19 dice una cosa importantissima tutte le persone con disabilità hanno il diritto di vivere dove, come e con chi vogliono nella massima libertà ed è compito dello Stato rimuovere quindi delle istituzioni rimuovere ogni forma e ogni ostacolo che impedisce questa loro questa loro libertà che dire quello che il messaggio che io vorrei che passasse questa mattina è che è molto importante che da queste comunità di pratiche di pratica vengano fuori finalmente delle persone io vi parlo per esperienza sono anni che insomma sono circa cinque anni che mi impegno nel riconoscimento dei diritti umani insomma che mi impegno nel movimento delle persone con disabilità e vi posso garantire che sempre che molto spesso mi ritrovo a tavoli sempre in cui la maggioranza è fatta di uomini è arrivato il momento che le donne con disabilità che colgano l'occasione che ci ha dato in qualche modo la come dire il covid per quanto sia una condizione veramente disastrosa però ci ha dato qualcosa che possiamo oggi sfruttare cioè la possibilità finalmente di poterci incontrare al di là delle distanze al di là degli ostacoli e quindi di elevare molto più forte quella che la nostra voce e chi ve lo dice è una persona che ha dovuto lottare tanto per affermare i propri diritti e per farsi e per autoconvincersi che in qualche modo lei poteva aveva la possibilità di realizzare i propri desideri grazie e scusate mi sentite? Maria Rosari hai finito? Sì grazie grazie a te grazie pensavo vedendo di fianco le altre diapositive pensavo volessi procedere ancora scusami no nel senso che cioè alla fine volevo ecco che passasse questo messaggio fondamentale che l'empowerment è qualcosa che veramente nasce da noi stessi cioè dal fatto di interagire le une con le altre portando con sé le proprie esperienze perché questo è fondamentale ognuno di noi è diverso dall'altro per quanto condividiamo la condizione di donne di donne con disabilità ma la diversità di una dall'altra è tantissima l'esperienza il trasmettere l'esperienza le une con le altre favorisce favorisce tanto l'empowerment e quindi era questo soprattutto che che volevo passasse questa mattina grazie grazie a te Maria Rosaria grazie a te Maria Rosaria sì in effetti è vero bisognerebbe tenere spento video e microfono e soprattutto non condividere lo schermo perché ovviamente si sovrappone al tuo anche se noi non l'abbiamo visto l'hai visto solo tu niente riprendiamo quindi il nostro incontro volevo semplicemente fare innanzitutto ringraziare sia Rosaria che Francesca dei loro interventi perché hanno introdotto nel caso di Rosaria diciamo dal punto di vista culturale cosa vuol dire raggiungere l'empowerment delle donne con disabilità e quindi cosa vuol dire diventare non solamente soggetti sociali ma anche soggetti politici nel caso di Francesca e quindi persone con diritti diritti esigibili da tutti i punti di vista e nel caso di Francesca invece è un caso concreto di empowerment che lei ha vissuto direttamente con la sua esperienza questa prima diciamo sezione dell'incontro di stamattina si conclude con Silvia Cutrera che è componente del direttivo aviondus agenzia per la vita indipendente componente della segreteria dpi e vicepresidente Fisch è coordinatrice del gruppo donne presso l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità riassumere le sue molte attività appunto non è cosa facile basti ricordare i documentari Vite indegne e Otto Weid uno tra i giusti il cortometraggio Silenzi interrotti e alcune pubblicazioni La mia storia ti appartiene 50 persone con disabilità si raccontano e le persone con disabilità durante il nazismo che ho letto e che è veramente interessante e le agenzie per la vita indipendente la relazione che ci propone si intitola la partecipazione politica delle donne con disabilità e praticamente tramite la descrizione del percorso che ha portato alla creazione del gruppo donne della FISH evidenzia gli argomenti di interesse scaturite appunto dai diversi confronti come questi abbiano rafforzato la consapevolezza di sé dei propri bisogni e dei propri desideri attraversati dalla differenza dei genere e dei propri corpi una consapevolezza che nasce appunto innanzitutto dalla individuazione degli ostacoli che la cultura patriarcale che agita anche in seno alla famiglia interpone nel riconoscimento dei diritti e nel riconoscersi come titolari di diritti come soggetti appunto politici pensanti grazie a questo percorso il gruppo donne si è dato dei precisi compiti da raggiungere e da presentare agli interlocutori politici a te la parola grazie Silvia sì buongiorno a tutte grazie Piera della presentazione io vi leggerò la mia relazione anche per rimanere entro il tempo assegnato e sicuramente un sicuramente solo dei cenni su argomenti temi che necessitano di essere approfonditi e sicuramente poi portati avanti nelle varie realtà insomma nei vari spazi di condivisione diciamo che la che il livello di partecipazione delle donne con disabilità nei contesti sociali culturali e politici è certamente scarso ed è questa una conseguenza di originari e patriarcali squilibri di potere oltre che di barriere e ostacoli che hanno impedito il riconoscimento dei diritti delle ragazze e delle donne con disabilità e non è un caso che per contrastare questo permanere l'insorgere di queste discriminazioni dovute all'intersezione tra genere e disabilità che nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è stato previsto un articolo dedicato che è l'articolo 6 con una richiesta esplicita agli stati di definire piani di sviluppo per la promozione di pari opportunità per avviare per garantire percorsi di empowerment e per quindi rendere disponibili dei canali di comunicazione che possano far sentire la voce delle donne con disabilità unico mezzo e unica unica diciamo azione politica per un'effettiva partecipazione ai processi decisionali diciamo che la partecipazione politica delle donne con disabilità si sviluppa soprattutto in realtà non strutturate in quanto noi siamo orfane di rappresentanza politica almeno per quello che riguarda una rappresentanza strutturata all'interno di partiti politici e a livello sia istituzionale che a livello parlamentare se le donne in generale sono poco rappresentate le donne con disabilità sono lo zero virgola questo ha fatto sì che le donne con disabilità hanno dovuto conquistare degli spazi di visibilità all'interno delle realtà associative che sono luoghi diciamo orizzontali dove le interrelazioni politiche fanno sì che il singolare modo di pensare possa essere condiviso e confluire in una pluralità di pensiero che è capace di generare innovazione e che quindi mostra come l'agire politico possa trasformare il mondo intorno a noi chiaramente questo anche per la capacità che hanno le donne con con disabilità di dare appunto gambe e dare ali come è il logo che abbiamo scelto alle parole e alle azioni dalle quali poi scaturiscono progetti formazione azione politiche che quindi generano il nuovo un esempio è quello che stiamo realizzando oggi con questo progetto sulle multidiscriminazioni e con la creazione degli strumenti operativi e di cui è stato fatto cenno chiaramente tutto questo per quello che riguarda la mia testimonianza e quello che è la mia esperienza si sta sviluppando ad oggi all'interno di una realtà associativa importante come FISH che è una federazione che raccoglie molte associazioni di persone con disabilità una quarantina e che ha quindi nata nel 94 ha voluto oltre che impegnarsi sulla difesa e sulla sulla promozione dei diritti delle persone con disabilità ha voluto introdurre anche un approccio alle politiche anche in un'ottica di genere chiaramente il percorso non è stato facile né immediato io ricordo proprio e la mia esperienza personale che fin dal 2000 sono stati i primi anni nei quali ho iniziato a fare politiche attivismo nelle associazioni ed è stato proprio con DPI fin dagli anni 2000 con DPI con i progetti europei con Daphne è riuscita proprio a dedicare spazi importanti anche a livello appunto europeo quindi internazionale alle donne con disabilità quindi ha ampliato il la conoscenza del fenomeno della multidiscriminazione e della violenza nei confronti delle donne con disabilità quindi favorendo quella che è la partecipazione proprio al mondo associativo sicuramente la convenzione ONU insomma che è stata appunto sottoscritta nel 2006 ha dato appunto un un ulteriore contributo e un ulteriore spinta nel rendere più visibile il tema delle multidiscriminazioni anche se nel nostro paese purtroppo da un punto di vista appunto ripeto politico istituzionale non è stata recepita non è stata recepita direi in toto e nello specifico anche per quanto riguarda le donne con disabilità il l'importante ruolo quindi della proprio della partecipazione politica all'interno proprio delle delle associazioni si è anche manifestata a livello europeo con il secondo manifesto sui diritti delle donne con disabilità che è stato prodotto scritto dal comitato donne dell'European Disability Forum e che è diventato uno strumento politico che è stato quindi ehm ratificato eh dal anche dalla dalla della FISH dalla federazione e che eh sull'onda appunto del delle indicazioni del manifesto ha fatto sì che eh due anni fa in in occasione del congresso nazionale è stata anche ehm adottata una mozione una mozione congressuale che quindi ha impegnato FISH proprio a ehm diciamo a promuovere eh iniziative ehm ricerche e riflessioni eh dibattiti proprio sul tema delle eh della multidiscriminazione delle donne con disabilità ovviamente con un focus su quello che è poi la piaga eh che è appunto il tema della violenza alle donne con disabilità e lì c'è stato questo momento anche di incontro col movimento eh diciamo delle donne delle donne comunque in particolare con un'associazione femminista che è stata differenza donna e che quindi ha creato quel diciamo quell'incontro eh di cui si faceva accenno prima un incontro eh dove anche il mondo delle donne eh da sempre impegnato sui temi eh legati proprio al genere ha diciamo ha incluso anche la eh la difficoltà delle donne con disabilità vittime di violenza eh nell'accedere ai ai centri antiviolenza e ai servizi di sostegno per per prevenire per uscire eh dalla violenza ed è stato quindi l'occasione di quell'incontro eh che ha portato alla produzione di quel questionario sempre di cui si faceva accenno un questionario rivolto alle donne con disabilità eh proprio per riconoscere e diciamo misurare il rischio di esposizione alla violenza ed è stato in effetti un diciamo una una triste insomma eh conferma della realtà che già eh conoscevamo e che intuivamo e che cioè mh campione di campione di 519 donne intervistate bene il 65 eh per cento eh dichiarava di avere subito una qualche forma di violenza eh diciamo che il il limite di quel di quell'indagine eh e è stata è stato che mh non erano state raggiunte eh le donne con una disabilità legata al all'area del neurosviluppo quindi disabilità diciamo cognitive e intellettive e mh e questo mh diciamo mh ci ha convinto di voler indagar meglio il il fenomeno e quindi con questo progetto questo di cui stiamo oggi eh eh realizzando questo evento eh collaterale eh è stato anche promosso un secondo questionario di cui non abbiamo ancora i dati eh analizzati abbiamo solo eh diciamo un dei riferimenti insomma eh che andranno sicuramente meglio analizzati ma che però mi fa piacere eh comunque condividere con voi e che riguardano mh diciamo sempre più o meno lo stesso numero di questionarii compilati che sono 563 e ugualmente da questo secondo eh questionario eh il dato più o meno corrisponde e cioè che la percentuale di eh donne che ha subito violenza eh è sempre intorno al eh 60 per cento e diciamo anche in questo caso le donne diciamo il numero di donne che ha risposto al questionario e soprattutto sono persone con una disabilità motoria eh fisico motoria o anche una buona percentuale sensoriale ehm e in particolare quel tipo di violenza e soprattutto l'insulto e la molestia prego su questi dati sicuramente verrà fatta un'analisi eh diciamo di approfondimento ovviamente questi sono proprio dati eh che ringrazio tra l'altro sia Daniele che Lucia per avermeli inoltrati ieri sera ehm che però ecco richiedono sicuramente una maggiore eh approfondimento però ecco questo eh è anche per segnalare come è dal basso è proprio dal mondo associativo che si sta muovendo questa sollecitazione a nella richiesta di dati ad esempio disaggregati per genere e disabilità che in realtà dovrebbero essere eh eh quindi razioni messe in campo più dalla politica più dal governo più dalle eh diciamo dalle parlamentari perché chiaramente avrebbero degli strumenti e e sicuramente molto più eh efficaci eh di quelli che le associazioni con buona volontà e con grande disponibilità stanno mettendo in campo eh mia via le conclusioni eh proprio per darvi eh solo un ultimo aggiornamento sulle azioni che sono state eh portate avanti appunto nel proprio in questo periodo come diceva appunto Rosaria questo periodo di di covid di eh diciamo di eh isolamento ha fatto sì che eh gli strumenti eh diciamo gli strumenti di legazione di rete hanno favorito la 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 maggiore partecipazione delle donne con disabilità eh proprio aderendo un po' la mozione eh congressuale è stato costituito il don il gruppo eh donne fish a luglio di quest'anno e ed è stato eh intanto diciamo questo gruppo donne fish è composto dalle ehm donne che sono già attive all'interno delle associazioni di persone con disabilità che aderiscono a fish che quindi a loro volta il diciamo l'obiettivo del gruppo è quello di ehm infiltrare proprio le associazioni per far diventare le questioni di genere le questioni legate proprio alle ai diritti la prevenzione della violenza insomma tutto questo sommerso che le donne con disabilità eh vivono ehm a tutti i livelli per sì che diventi una priorità all'interno di tutte le associazioni e questo mh diciamo questi incontri che si sono avviati in videoconferenza hanno visto una grossa partecipazione anche proprio una profondità nei temi portati che sono che spaziavano dal diciamo da temi che riguardano tutte le donne quindi dal eh appunto dal tema della violenza al tema anche non so del revenge porn del ehm del del punto di un diritto a una maternità di una ehm volontà insomma di voler lavorare di crearsi delle una vita indipendente e di poter proprio smarcarsi da eh diciamo da da stigmi sociali eh che ancora ci che ancora impediscono la vera la c'è la piena cittadinanza eh diciamo questo eh il gruppo donne fish ha avuto proprio eh la nascita in contemporanea anche con ehm la l'insediamento dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità che è uno strumento proprio previsto dalla convenzione è un osservatorio a cui mh diciamo al quale partecipano anche ehm rappresentanti di eh enti sindacati università eh e realtà diciamo ehm insomma attive da un punto di vista eh istituzionale. in questo osservatorio sono presenti anche chiaramente rappresentanti dalle associazioni di persone con disabilità e il compito dell'osservatorio è proprio quello di implementare il trattato internazionale cioè la convenzione nella legislazione nazionale cioè osservare che ci sia questo adempimento e questo può avvenire solo con una predisposizione di un piano di un piano che noi chiamiamo un piano biennale di attuazione e appunto in questo ehm osservatorio per la prima volta e la terza edizione è stato previsto anche un gruppo un gruppo che è appunto il gruppo eh donne con disabilità e quindi questo potrebbe eh diciamo portare avanti il tema eh delle donne con disabilità e di realizzare maggiormente in concreto eh la partecipazione delle donne con disabilità a questo eh proprio alla eh diciamo alla modificazione eh del del disegno della nostra società cioè se le donne con disabilità sono invisibili chi predispone eh il mondo non ne tiene conto e quindi non va a innovare non tiene conto delle esigenze che la componente rappresenta quindi l'esserci la vera voce avere uno spazio di condivisione può diventare eh un un cioè può dare delle possibilità e queste possibilità eh chiaramente orientate come si diceva nell'avere maggiore salute nell'avere maggiore formazione lavoro e vita indipendente eh chi mischi diciamo gli interventi che seguiranno evidenzieranno maggiormente quelle che sono le carenze che incontrano le donne con disabilità e velocemente mi concludo eh volevo eh di nuovo sottolineare in modo positivo l'incontro eh anche col mondo eh delle donne eh femministe che stanno lavorando eh su un percorso eh analo diciamo diciamo che che deve intersecare anche le nostre rivendicazioni e ci sono decenni e diciamo proprio diciamo delle delle luci in questo percorso e proprio in questi ultimi due anni proprio con la partecipazione di alcune componenti di alcune donne con disabilità che hanno contribuito al rapporto eh italiano su quella che è la eh con il monitoraggio sull'applicazione della convenzione di Istanbul in Italia proprio con attraverso il forum italiano m per la disabilità alcune donne hanno eh appunto fatto eh un lavoro diciamo importante eh appunto rendendo disponibile i dati sulla condizione delle donne con disabilità e questo eh diciamo rapporto è stato anche diciamo questi elementi sono stati anche eh riconosciuti dal gruppo di esperti proprio che osservano proprio l'applicazione della convenzione ONU e quindi sono state anche eh fatte presente al governo italiano. La stessa attenzione è posta all'interno di ASBIS che è l'agenzia per lo sviluppo sostenibile che ha l'obiettivo di raggiungere nel duemila e trenta i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile tra cui c'è eh con il goal 5 anche quello che riguarda la parità di genere e di conseguenza eh diciamo l'invito che io posso fare oggi eh è quello di ampliare la partecipazione delle donne con disabilità e secondo me soprattutto eh questo invito è rivolto anche alle nuove generazioni, alle ragazze. Noi abbiamo un problema di ricambio anche all'interno delle associazioni di persone con disabilità e questo può accadere utilizzando meglio la rete e qui perché in rete ci sono tantissime giovani donne che a loro volta stanno disabili con disabilità che stanno portando avanti eh un loro percorso proprio di eh rappresentare la disabilità in un modo diverso. Ci sono delle influencer eh ci sono delle donne paralimpiche, ci sono delle filosofe eh che in qualche modo anche loro stanno facendo politica. Quindi si tratta magari di eh lavorare al meglio per mettere insieme tutti questi eh rivoli e fiumi e ovviamente con l'attenzione al diciamo al digital gender divide che purtroppo rischierebbe di aumentare eh le discriminazioni. E quindi vi ringrazio insomma per eh per l'ascolto e mi piacerebbe mh ritornando sul tema dell'osservatorio eh so con piacere che è presente eh tra il pubblico anche Vittoria eh Doretti che insieme a me coordina questo gruppo eh donne all'interno dell'osservatorio e e quindi ringraziando tutte voi mi farebbe piacere eh che anche voi possiate insomma ascoltare Vittoria. Grazie. Grazie, grazie Silvia. Chiedo a Vittoria Doretti che interverrà adesso di aprire il microfono e le chiedo brevità perché appunto siamo un po' indietro con i tempi. Faccio anche un'altra raccomandazione a tutte le relatrici presenti per chi segue la sottotitolazione ehm questa si sovrappone con la bocca di coloro che stanno parlando in quel momento. Quindi vi chiedo di tenere possibilmente alta la testa o comunque di dirigere in maniera migliore il la telecamera in modo tale che questo difetto diciamo venga azzerato. Grazie. Prego. Grazie, grazie a tutti. Grazie Piera, Silvia, grazie a tutti voi per essere qui. In realtà è solo un saluto molto rapido, vi seguo con grande attenzione. Ehm sono stata nominata co-coordinatrice insieme a a Silvia Cotrera di questo eh gruppo di lavoro dell'osservatorio da parte anche del ministero come rappresentante del ministero della salute. Quindi per me questo è mh alcuni di voi mi conoscono saluto Oria eh che ho visto collegarsi eh io da molto tempo mi occupo di eh violenza sulle donne e eh violenza eh sulle sulle le vittime dei crimini di odio. ehm sono un medico sono del sistema sanitario nazionale e credo che eh posso solo confermare l'attenzione che diceva Silvia è importante uno sguardo attento anche da parte delle istituzioni perché soprattutto in momenti come questi l'invisibilità eh è forse la più grande alleata della della violenza e quindi in un momento come questo eh essere in rete con voi permette anche di eh a fare azioni forti per noi delle istituzioni. Per cui niente non io sono qui per ascoltare prendo appunti e l'azione del possiamo dire ce lo siamo già detti con Silvia Cotrera l'azione del gruppo di lavoro delle donne con disabilità dell'osservatorio sarà trasversale a tutti gli altri gruppi e insieme ovviamente alla comunità di pratica insieme a FISC insieme anche ad altre associazioni per portare forte 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 eh eh luce in angoli estremamente oscuri ehm questo è un momento molto particolare questo ve lo dico da medico e eh perdonatemi se eh ci sono e non ci sono immaginatevi eh la situazione per noi medici in questo momento è molto molto difficile però ora più che mai c'è necessità di fare rete e di accendere luci in posti che eh sappiamo bene come donne che quando nei momenti difficili, nei momenti di calamità quelli che davamo diritti assodati spariscono e spariscono soprattutto eh per per situazioni in cui già non c'era luce prima ora ancora di più. Dobbiamo stare molto attenti, molto vigili. Sentivo prima parlare dell'empowerment e ricordo una cosa che ho imparato lavorando in zone di guerra all'estero che era la sorellanza. Eh le donne quando sanno entrare in sorellanza sono estremamente potenti e forti e io ringrazio perché sto veramente imparando da tutte voi, da tutti voi e la mia azione all'interno delle istituzioni vi garantisco che sarà fortissima e non permetterò che si spengano luci nemmeno adesso anche se è molto difficile. Vi abbraccio tutti e continuo a seguirvi e prendere appunti. Grazie Silvia per essermi accanto in questo momento così difficile tu sai eh che cosa intendo dire. Essere medico oggi è anche essere medica è particolarmente duro. Occuparsi di vittime di violenza ancora più duro perché anche anche nei posti migliori eh talvolta c'è lo sguardo di dire sì vabbè ma questo è un problema secondario e ci vuole tutta la forza di ognuna di voi a far sì che non sia un problema secondario. Grazie. Oh non riesco. Ecco. Grazie. Grazie Vittoria. E niente se ci sono interventi io ne leggo solamente uno dalla chat eh di Pierangelo purtroppo non so il cognome che è il presidente della consulta provinciale di Massa Carrara e se volesse intervenire anche a lui chiedo ovviamente brevità perché vuole portare un contributo eh probabilmente d'esperienza relativamente alla consulta eh gli chiedo di attivare il microfono e di parlare. Grazie. Ci sono. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutte. Grazie di questa occasione è veramente importante. Eh sì cercherò di essere brevissimo dando due suggerimenti che sto sperimentando in prima persona. Ma guardate una prima una breve riflessione. Le ultime parole della dottoressa sono è una santa verità. Noi usciremo sicuramente da questa emergenza come paese ma sul tema dei diritti avremo una battaglia che sarà ineluttabile. Usciremo con una rinegoziazione al ribasso dei diritti e questo la dice lunga. Però vorrei portare anche una parola di ottimismo per chi non l'avesse ascoltato invito a ascoltare le parole della presidente della vicepresidente appena eletta degli Stati Uniti d'America quando dice questo paese ha insegnato che a nessuna bambina nessun adolescente è vietato di ambire ai propri sogni. Questo ci deve ci deve essere un invito forte anche per il tema che è stato affrontato stamani. Si può fare con la consapevolezza che è un compito veramente difficile. Io sono presidente di una consulta anomala. Lo devo dire perché è una consulta che ha fatto una scommessa. Quando siamo partiti nel nostro lavoro abbiamo chiesto all'ente provinciale di aprire le adesioni non solo, abbiamo quasi, non dico imposto ma quasi, di aprire le adesioni all'esperienza non solo alle associazioni del settore e quindi ha aderito alla consulta dei soggetti che potrebbero apparire strani e si sono determinati invece, si sono poi rappresentati determinanti. Mi riferisco agli ordini professionali di area tecnica, mi riferisco agli avvocati, alle associazioni di categoria e a tanti altri, ma non mi voglio dilungare. Perché dico questo? Perché se noi vogliamo provare a porre rimedio, a colmare gli spunti che stanno emergendo da questo dibattito, e ne colgo due, la lontananza che c'è sempre stata dal movimento femminista e la mancanza delle donne, di una rappresentanza politica, noi ancora di più dobbiamo capire che questo dibattito, questa partecipazione deve essere allargata il più possibile. Perché guardate, con tutti i limiti, perché ci sono i limiti nel mondo dell'associazionismo, le associazioni il loro compito lo svolgono. Noi dobbiamo portare il tema della disabilità all'interno della nostra comunità. Dobbiamo andare a parlare di questi argomenti, della donna in particolare, a tutti quei soggetti che escludiamo a prescindere, che invece fanno la parte fondante dell'ambiente dove viviamo. Allora vi porto un esempio concreto. Si è parlato tanto anche stamani di Convenzione ONU. Benissimo, io mi sono posto un tema, ma se non si conosce, perché non si conosce la Convenzione ONU, dove possiamo portare, in quale ambiente la possiamo portare per la sua divulgazione? Allora l'iniziativa che questa consulta di Massa Carrara ha preso è stata quella di portare la conoscenza di questo trattato all'interno dei consigli comunali dei comuni della nostra provincia. Qualcuno potrebbe dire, ma scusate, un'iniziativa che non serviva. È una legge adottata, ratificata, ho capito. Però se vogliamo abbattere le barriere della non conoscenza, se vogliamo progredire in questo sentiero, dobbiamo assumere la consapevolezza che prima di tutto la Convenzione deve essere conosciuta da chi amministra il territorio. Perché se non la conoscono loro, sarà difficile oltrepassare le pratiche del favore per andare a quelle del diritto. E abbiamo riscontrato da una parte il piacere di tutti gli amministratori provinciali di poter incontrare questo argomento e dall'altra parte quanto fosse vera la richiesta, l'esigenza di portarla in quel contesto. Perché alla fine noi tutti, più o meno addetti ai lavori, nel meno mi ci metto io naturalmente, nel momento in cui siamo consapevoli che parlare di disabilità non vuol dire parlare di una malattia, dobbiamo prendere atto che il referente politico diviene indispensabile. Perché lui è lui che regola la vita del territorio. Quindi noi dobbiamo andare a interfacciarsi con lui e a dire in maniera chiara guarda che più sei a conoscenza che questo è un diritto e più sarà agevole anche per te la pratica di questo diritto e la divulgazione in ambito comunitario. L'altro riscontro e chiudo positivo che ho avuto è di andare a parlare del tema della donna disabile con i movimenti femministi e a un certo punto con estrema semplicità sapete cosa mi sono sentito dire? In effetti non ci avevamo mai pensato. Ma io non tanto da partecipante all'attivismo femminista ma da osservatore esterno avrete una cosa banalissima. Cioè negli incontri, nella ricorrenza della giornata della donna per esempio, ma possibile che a nessuno veniva in mente di invitare una donna con disabilità? Questo per dire cosa? L'empowerment certo, questa consapevolezza sicuramente soprattutto deve maturare nelle donne, ma non facciamo un errore, un possibile errore fatto fino ad oggi. Parlare solo con le donne, allarghiamolo questa conversazione, allarghiamola il più possibile. Del resto, sono pienamente d'accordo, parlare prima di... le donne con disabilità prima di tutto che parlino tra di loro, ma credo che subito dopo arrivi un'altra esigenza, quella di scambiare le proprie esperienze con il mondo femminile in generale e ancora subito dopo con tutto il mondo, perché si cresce tutti insieme naturalmente cercando di colmare gli errori più evidenti e non aver mai parlato a tutti i livelli del tema della donna con disabilità è sicuramente una lacuna enorme. Però io credo, riprendendo l'invito, perché io sono rimasto colpito di questa donna che è diventata vicepresidente degli Stati Uniti d'America, io credo che veramente non ci sia non ci sia proibito nulla. Grazie dell'opportunità. Grazie a lei, grazie a lei. Niente, ritengo importante soprattutto, adesso fra le molte cose che le hai detto tutte significative, la cosa più importante appunto, o perlomeno che è balzata a me come significativa ancora di più, è quella appunto della relazione fra donne con disabilità e mondo femminista. Un'azione, io non sono una donna con disabilità, a parte gli occhiali che porto, ma sono una femminista e questa attività nella mia realtà territoriale, l'ho sviluppata all'incontrario, nel senso ho chiesto alle donne con disabilità e alle associazioni che operano su questo territorio e alle femministe con le quali sono in contatto di interfacciarsi, di creare relazioni, di conoscere le necessità e i desideri delle donne con disabilità, di qualunque età esse siano, nel senso che abbiamo lavorato sull'infanzia, abbiamo lavorato sulle donne, le ragazze e le donne, abbiamo lavorato anche con le donne anziane. E questo credo che sia una realtà che sta lentamente, ma sta emergendo, della quale io personalmente sono molto contenta. C'è un ulteriore intervento che viene richiesto da Maria Teresa Lattajoli, alla quale chiedo anche a lei di accendere il microfono, il video e di parlare brevemente, per cortesia, perché sono già le 11.15 e ci sono ancora tante relazioni da ascoltare. Grazie. Maria Teresa Lattajoli, c'è? C'è presente, ma probabilmente non vuole intervenire, magari era soltanto un contributo per iscritto. Ma in realtà non ha iscritto. No, no, eccolo. Ecco. Eccola. Sente? Ecco, perfetto, sì, sentiamo. Buongiorno, grazie per essere in questo gruppo. Io rappresento ICPSC, Associazione Italiana Contro Epilessia e abbiamo avuto diversi riscontri in merito per alcuni argomenti. Allora, più che mai emerge il fatto della vita indipendente per queste persone con epilessia perché ci sono problemi con l'operatore che entra a far contatto con loro, in particolare sia per il fatto delle emergenze in sé, perché nessuno si vuole prendere la responsabilità di somministrare il farmaco salva la vita e poi anche della figura proprio dell'operatore perché lì io mi riferisco in particolare per le mattie rare e per quella fascia che comprende anche il comportamento che ci vorrebbe una figura in particolare, nel senso che sarebbe predisposta un educatore professionale proprio per garantire insomma un certo tipo di servizio per queste persone. Magari se fosse, se ci potesse essere anche l'intervento della ASL che se ne fa cura ehm di questo. E in più ehm vorrei dire eh nel senso che sarebbe utile anche una convenzione dal punto di vista della tariffa eh perché eh la tariffa eh che viene eh proposta per questo tipo di figura all'interno del progetto di vita indipendente che è dibadante. Mentre eh la figura dell'operatore come educatore è di un'altra cifra. Che sia utile eh fare immergere un'azione a pro di queste persone. Se voi vorreste sarebbe una un'idea insomma per favorire insomma questo tipo di progetto per garantire una figura idonea a queste persone. Eh e poi il fatto delle emergenze anche nel fatto sia del lavoro, della società, della dello sport eh eccetera. Sarebbe molto importante fare mh è un'idea dopo da lavorare insieme eventualmente. Se eh eh si può eh se si può fare insieme con le associazioni di categoria eh diabete, asma, sciocca, nipi, latti, con insomma tutte queste cose per le patologie croniche che mi riferisco. Fare come abbiamo fatto per la scuola che ehm abbiamo fatto un protocollo. Un protocollo insieme con la ASL, la regione e tutto il resto ed ognuna ehm associazione farebbe un filmato un filmato dove spiega eh il proprio corso. Poi eh fatto questo corso eh insieme con le organizzazioni sindacali, con la FISH, le associazioni, tutto il mondo. Eh di far eh raggruppare tutto questo insieme ehm e dare ehm ai canali organizzativi sindacali farli trasmettere di modo che possano essere ho tralasciato un passaggio importante possano essere immesse come emergenze accanto ai corsi di BLS in poche parole. Questo sì. se si possono mettere eh perché così almeno possono passare come sicurezza sui luoghi di lavoro. Sarebbe questa l'iniziativa importante. Raggruppare tutte le associazioni eh ognuna facendo il suo corso ehm divulgandolo attraverso le organizzazioni sindacali e eh al tempo stesso mettendola a fianco eh dei corsi già esistenti così che le aziende eh possono fare un aggiornamento tramite eh le organizzazioni sindacali. Era questa in fondo lì l'idea di base da condividere insieme se voi siete d'accordo. Grazie. E per ultimo eh la violenza è immersa con grande vigore la violenza sulle donne di eh con disabilità. Eh perché i centri antiviolenza ehm non hanno questo tipo di percorso. Eh nel senso che ehm in poche parole eh occorrebbero dei corsi di formazioni per la disabilità eh dei posti idonei eh a queste persone eh capire le esigenze di queste persone come affrontare il problema ehm fare dei corsi specifici ehm per quanto riguarda l'isabilità questo in fondo. Mi scusi mi scusi la interrompo un po' per motivi di tempo e mi scuso veramente. Sì ho finito. Sì. E soprattutto per dirle che quest'ultimo punto in modo particolare che sta affrontando lei eh viene sviluppato nei prossimi interventi per cui eventualmente potremmo risentirci cioè potrebbe rientravenire eh una volta sentiti gli interventi che si susseguiranno da adesso in avanti eh magari puntualizzando più precisamente quello che voleva dire in merito appunto anche ai centri antiviolenza perché ci saranno una serie di suggerimenti di analisi da questo punto di vista. per cui intanto la ringrazio. Grazie a voi. Grazie veramente. Sarebbe l'ultima cosa sarebbe molto importante saper snocciolare il fatto delle emergenze per queste persone che proprio vengono discriminate perché non c'è nessuno che si prende la responsabilità di somministrare il farmaco salvavita eh cosa che ehm sopporta anche AICE eh perché eh molti dicono anche per il fatto del SAL non abbiamo ehm nessuno che si prende la responsabilità e è tutto basato sulla discrezionalità ma però questa cosa del farmaco eh la può fare chiunque non è ehm discrezionale cioè eh possono fare chiunque anche senza titolo diciamo questo bene la ringrazio molto grazie 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 niente riprendiamo eh con le relazioni e do la parola a Giada Morandi a cui a cui chiedo di attivare microfono e video eh Giada Morandi è dottoressa in psicologia educatrice coordinatrice del servizio antiviolenza disabili il Fior di Loto e del progetto Prisma per le relazioni d'aiuto a favore delle persone con disabilità in situazione di doppia discriminazione. È anche referente dell'associazione Verba in qualità di coordinatrice. L'associazione Verba è capofila di una rete di associazioni di volontariato che in collaborazione col servizio Passpartout del comune di Torino ha realizzato il progetto Prisma per le relazioni d'aiuto. È un progetto dedicato a donne con disabilità, minori con disabilità, migranti con disabilità, persone LGBT più con disabilità ed altre categorie marginalizzate. Il suo intervento ha il titolo salute di genere e disabilità l'esperienza dell'ambulatorio il Fior di Loto nell'accesso ai servizi di ginecologia e ostetricia. Affronterà tramite l'analisi di alcuni dati relativi alle patologie delle donne con disabilità, in particolare sull'incidenza dei tumori femminili, una descrizione relativamente a quali con quali presupposti è nato l'ambulatorio Fior di Loto, come l'esperienza abbia sottolineato la necessità di usare un approccio multidisciplinare nella relazione con le persone, con le donne con disabilità e delle molteplici declinazioni del concetto di accessibilità. Grazie, passo la parola a Giada Morandi. Giada Morandi è presente? Stamani l'avevo vista all'inizio. È a microfono e telecamera accesa, quindi adesso capiamo. Giada ci riesce a sentire? Scusate intanto l'ambulanza, era evidente che dovesse passare in quest'estate. Giada ci senti, ci vedi? Ok, no, Giada forse... Ok, vedo che prova a rientrare. Vediamo un attimo. Giada ci senti, ci vedi? Se ci sono delle difficoltà si potrebbe, anche se mi dispiace un po' perché la successione delle relazioni aveva un suo senso, in attesa che Giada Morandi riesca a riattivare, a superare questo problema tecnico, potrei passare... Ci sono! Oh, ecco, perfetto, perfetto. Ho cambiato, in realtà sono dal cellulare... Arrivo, eh? Devo spegnere il computer perché sennò fa eco. Scusate. Ok. Vediamo un bellissimo neon... Sì, immagino... Ok, dovreste mettermi da basso perché lo sto facendo col cellulare, scusate, non è sicuramente la prospettiva migliore. Va bene, grazie. Prego. Allora, io avevo anche preparato delle slide che adesso capirò anche come condividere da telefono. Nel frattempo cominciò a dire due parole. Allora, noi abbiamo avviato qualche anno fa in collaborazione con l'Ausle della città di Torino all'interno di quelli che sono i consultori familiari un ambulatorio ginecologico accessibile alle donne con disabilità. Questo nasce a seguito di una ricerca che era stata condotta su input dell'Associazione Verba ma condotta dal Dipartimento di Oncometologia dell'ospedale cittadino sull'incidenza dei tumori femminili nelle donne con disabilità. Questa ricerca aveva dimostrato che le donne con disabilità sono per una serie di fattori più esposte a rischio di sviluppare tumori femminili. Una serie di fattori che elenco, poi io non sono un medico, quindi non ho pretesa di esaustività ma che erano emersi dalla ricerca, erano sostanzialmente la sedentarietà, a volte la povera storia riproduttiva, la maggiore esposizione a farmaci e radiazioni per via degli esami strumentali alle quali bisogna spesso sottoporsi, a volte l'impossibilità di percepire il dolore in zona pelvica, penso per esempio alle persone con lesione midollare, e l'impossibilità di fare autopalpazione, questi sostanzialmente come elementi che riguardano sostanzialmente fattori interni. A questi si accostava all'epoca sulla città di Torino, ma poi tra l'altro avevamo anche poi visto un rapporto molto interessante del gruppo Dorn e Wildm che diceva sostanzialmente che la situazione poi nel resto d'Italia non era tanto diversa, aggravava la situazione e l'inaccessibilità dei luoghi preposti alla cura, soprattutto a quelli che riguardavano la prevenzione dei tumori femminili. Quindi è stato avviato un lungo lavoro con i consultori dell'ASLE, perché sostanzialmente quello che a noi premeva come realtà di donne con disabilità è che non fosse creato l'ennesimo ghetto, ma fosse creato un luogo all'interno dei consultori che accolgono tutte le donne capaci di accogliere anche le donne con disabilità. Quindi che fosse un luogo unico nell'ottica davvero di... che potesse garantire realmente le pari opportunità. Quindi è stata avviata un lungo tavolo di concertazione che ha coinvolto sia gli stakeholder cittadini, sia i rappresentanti delle varie istituzioni, l'ASLE e il comune, per ragionare attorno alle caratteristiche che questo ambulatorio avrebbe dovuto avere e quindi attorno al concetto di accessibilità. E mi scuso con Piera se mi dilungo in questo aspetto. Allora, sostanzialmente, vabbè, avevamo analizzato il tema dell'accessibilità rispetto allo spazio. Quindi che lo spazio fosse realmente accessibile per tutti, ci fosse una rampa d'ingresso, ci fossero ascensori abbastanza larghi, porte automatiche, segnaletiche, anche a pavimento per le persone cieche. Eh, vabbè, corridoi ampi, spazi all'interno dell'ambulatorio ampi abbastanza da permettere eh l'ingresso in carrozzina e anche eh la presenza di un lettino ginecologico elettrico e un sollevatore eh nonché la compresenza di almeno due operatori che potessero eh sostenere le donne negli spostamenti affinché le donne possano andare da sole. Nel senso che una delle delle questioni su cui ci eravamo noi molto battute e avevamo anche posto al tavolo era perché una donna con disabilità deve necessariamente andare accompagnata dal ginecologo che per antonomasia è una delle visite in cui le persone hanno più bisogno di privacy semplicemente perché non può fare le cose da sole. Noi dobbiamo garantire alle donne di poter accedere con la stessa privacy che garantiamo alle altre donne. ehm l'altra questione su cui ci eravamo interrogati sempre rispetto all'accessibilità era quella del tempo eh quando si si ha a che fare con la disabilità io stessa sono una persona con disabilità eh non è possibile contemplare i tempi canonici che vengono inseriti nelle agende delle delle ASL ad esempio per effettuare il pap test eh almeno in Piemonte ma penso sia così in tutta Italia vengono considerati in agenda due minuti due minuti per una donna con disabilità e sono impossibili eh non si fa neanche praticamente il tempo ad entrare e a sistemarsi con la carrozzina quindi rispetto al tempo abbiamo stabilito che eh ogni visita dovesse durare un'ora la prima visita mezz'ora, 40 minuti le visite di controllo, 20 minuti per il pap test ehm abbiamo stabilito che nel nello stesso momento, nello stesso accesso venissero effettuate più prestazioni per evitare le persone di di tornare più e più volte quindi nello stesso accesso visita ginecologica, ecografia, pap test, visita senologica, colloquio contraccettivo eccetera ehm e anche la possibilità per esempio questa cosa è successa eh tante volte ehm specialmente in donne molto giovani con disabilità intellettiva o psichiatrica che fosse necessario che tornassero più almeno due volte la prima volta per conoscere la dottoressa quindi la ginecologa e quindi la prima volta di conoscenza di cura della relazione e una seconda volta eh per effettuare la visita per sottoporsi a visita mh questa questione del tempo è davvero è fondamentale eh rispetto alla a tutte le disabilità anche ad esempio penso eh alle donne sorde che hanno bisogno dell'interprete lice noi ce l'abbiamo un interprete lice che che va quando le donne ce lo chiedono eh e però ci vuole il tempo eh per bisogna considerare il tempo dell'interpreteariato eh non si possono considerare i tempi canonici eh e l'altra questione fondamentale è la questione della puntualità chi si muove non autonomamente eh è vincolato agli orari di dei mezzi che non so penso ad esempio a Torino c'è un sistema di trasporto eh con dei pulmini mezzi attrezzati che però vanno prenotati ventiquattro ore prima arrivano a quell'ora e se tu non ci sei se ne vanno quindi è assolutamente importante che eh l'orale della visita venga rispettato la terza questione eh rispetto all'accessibilità che avevamo contemplata è quella che poi abbiamo definito eh di di modo eh modo nel senso che eh nel senso di organizzazione proprio dell'ambulatorio eh viene svolto un filtro telefonico direttamente dall'associazione ed è eh fondamentale questo perché permette di rilevare eh già ex ante i bisogni eh della persona e questo non è un dettaglio nel senso che a volte eh capita che chi magari telefona un educatore per prendere un appuntamento per una delle delle persone delle signore che segue e ci dice ad esempio di chiedere alla ginecologa di togliere il camice perché la persona si spaventa ad esempio di fronte ai camici ehm o comunque tutta una serie di accortezze che l'associazione riferisce prima alla al medico e eh all'ostetrica e alla psicologa che sono sempre presenti durante la visita ehm in modo che si possano ehm prendere queste accortezze e facilitare eh l'accesso. Io avevo appunto preparato delle slide ehm che al limite poi vi mando perché adesso da telefono ho qualche problemino a condividere più che altro non vorrei farvi perdere tempo ehm perché avevo messo nelle slide i numeri del servizio eh e anche le tipologie delle delle disabilità e delle richieste che le donne portano eh che secondo me può essere molto interessante anche visto l'argomento del dell'incontro ma appunto non vorrei farvi perdere tempo perché se adesso mi metto a scavare col telefono eh penso di di rubare troppo tempo agli altri ma mh se mi dite poi un indirizzo a cui mandarle ve le mando volentieri. Ehm in ogni caso nelle slide ehm fanno vedere che vabbè insomma la la prevalenza eh delle donne che si rivolgono che hanno avuto accesso all'ambulatorio e eh disabilità intellettiva eh seguita a ruota dalla disabilità eh motoria e ehm invece pochissime donne con disabilità sensoriale. Eh e poi avevo preparato uno specchietto sui casi perché mi sembrava anche un buon collegamento rispetto all'intervento che sarà dopo il mio sui casi di violenza rilevati eh nel fino all'anno duemiladiciannove perché i dati del duemilaventi ancora non li abbiamo tirati giù ehm nell'anno duemiladiciannove il mi sembra vado un po' memoria il sessantatré per cento delle donne con disabilità che hanno avuto accesso alle visite ginecologiche hanno eh riportato un'anamnesi una storia di violenza ehm subita eh negli ultimi tre anni ci siamo dati quello come tempo di ehm come dire come come elemento da da contare nel per fare la casistica ehm ed è il motivo per cui spesso cioè è sempre presente anche la nostra psicologa perché a volte proprio durante la visita ginecologica avviene eh la riattivazione del trauma mh a volte neanche gli operatori che accompagnano le donne sanno di questi vissuti se il trauma si riattiva eh durante la visita e la la nostra psicologa è sempre pronta come dire a poi ritagliarsi un angolino eh per cominciare ad accogliere poi eh viene agganciata al servizio antiviolenza disabili mh che non è oggetto oggi del mio intervento ma che mi sembra importante sottolineare che così eh come l'ambulatorio è all'interno dei consultori per tutte le donne il servizio antiviolenza disabili è all'interno del centro antiviolenza cittadino dove accedono tutte le donne e anche quelle con disabilità. Io ho finito se volete vi invio le slide da qualche parte in modo che possiate condividerle con gli altri. Molto bene grazie grazie sì le slide possono essere utili anche per avere quei riferimenti a cui accennava e anche perché l'esperienza descritta è un'esperienza sicuramente importante e significativa. Soprattutto devo dire la cosa che mi ha colpito di più è questa attenzione al tempo eh che è un'attenzione che raramente viene posta ma non solo in termini di eh salute cioè non solo nei confronti della cura ma in generale non viene posta attenzione al tema del tempo anche nella nell'accesso ai alle strutture urbane non viene posta attenzione al tempo banalmente anche per una telefonata di di natura informativa anche relativamente per dire all'accesso alla al ai sistemi informatici quando si ha bisogno di aiuto da parte delle call che si devono fare insomma la questione del tempo è una questione importante e l'approccio al progetto qualsivoglia progetto non solamente architettonico urbanistico ma anche dei servizi dovrebbe essere proprio un approccio spazio temporale eh le due cose dovrebbero andare a braccetto e mi fa molto piacere aver sentito che appunto voi abbiate eh articolato anche la modalità di di accoglienza e soprattutto di servizio nei confronti delle donne con disabilità anche tramite questo criterio che è un criterio sicuramente importante eh niente io ringrazio moltissimo per la sua relazione e a questo punto passerei la parola a eh Giulia Callari eh Giulia Callari è mi ha mandato una mail poco fa e volevo leggerla perché in qualche modo si autopresenta e scusatemi eccola qui eh Giulia Callari dice che eh i suoi punti focali eh io in realtà avevo deciso di eh non non descrivere nulla della sua vita eh perché eh desideravo solamente eh ringraziarla per la sua presenza a nome dell'intero gruppo di lavoro eh per appunto aver accettato di testimoniare su un tema così pervasivo e difficile da metabolizzare come può essere appunto l'esperienza di violenza subita in quanto donna e in quanto per donna con disabilità eh Giulia però mi ha mandato un suo breve curriculum ma ve lo voglio lo sintetizzo un po' eh ha una disabilità visiva si è diplomata al liceo delle scienze umane con indirizzo economico sociale si iscrive a un corso di educazione cinofila nel 2016 e l'anno dopo diventa educatrice ehm ha fatto volontariato presso canili privati e per la durata di tre mesi anche all'interno di un carcere minorile collabora eh con l'unione italiana ciechi e con loro prende parte a progetti quali eh le cene al buio all'interno di locali sistemati per gli eventi e un progetto portato avanti nelle scuole chiamato conosciamoci meglio praticamente si tratta della divulgazione della disabilità visiva eh fa da ragazza immagine per un'agenzia di cosmesi eh e infine si è recentemente iscritta a un corso di massaggi olistici per ottenere la qualifica di massaggiatrice vive nella casa delle donne lucia ai siesta che sappiamo quanti problemi ha avuto e ha tuttora e che continuiamo a sostenere prego già da giulia scusami ti passo la parola se puoi attivare microfono e video ti ringrazio grazie mille Piera spero di aver attivato sia microfono il video di non sta stallando perfetto perfetto ci sei in video e in voce perfetto grazie mille io volevo anche ricollegarmi al discorso di Giada se non ricordo male il nome perché ho trovato estremamente interessante il suo intervento eh in quanto io da persona non soltanto di sesso femminile quindi donna ma anche donna vittima di violenza e di disabilità visiva tengo moltissimo a quello che lei ha espresso anche inerente alle tempistiche e ai mezzi di trasporto soprattutto che mh reputo veramente assolutamente ingiusto che ai giorni d'oggi ancora diciamo passate nel termine il mondo non sia predisposto ad accogliere e a rendersi appunto accogliente a persone che come me e molte altre hanno difficoltà per esempio sui mezzi di trasporto che può sembrare una cosa in realtà minimale perché uno dice vabbè prendi l'autobus prendi il treno prendi quello che è però dal momento in cui ti manca una cosa essenziale come può essere appunto la vista se non vi è una situazione che si predispone all'aiuto di persone che hanno appunto difficoltà diventa veramente ostica perché io personalmente mi sono ritrovata in tantissimi contesti diversi in cui dovevo prendere appunto mezzo X ed è stato veramente difficoltoso perché non vi era appunto la predisposizione per esempio gli autobus non sono mai mai dichiarati è sempre un'impresa riuscire a riconoscerli e anzi che io sono ipovedente quindi ho un minimo comunque di visus ma conosco esperienze di persone anche a me molto vicine totalmente cieche che per quanto riguarda la presa degli autobus hanno non poche difficoltà in quanto appunto non vengono comunicate ma gli autobus come anche per esempio le fermate sulla metro che spesse volte non sono annunciate o sono annunciate in ritardo diciamo che queste cose a mio avviso non dovrebbero assolutamente accadere perché fanno comunque svilire una persona che già di per sé eh ha difficoltà a prenderli e io penso che il mezzo più importante per sentirsi autonomi sia proprio la mobilità e dal momento in cui manca quest'ultima diventa veramente un grande problema perché a mio avviso non si dovrebbe essere sempre accompagnati nel senso diciamo che per risolvere appunto a questa problematica vi si predispone l'accompagno però questo comunque ti ti priva un po' di quella che è la tua libertà perché ok avere l'accompagno però a mio avviso dovrebbe essere assolutamente importante che vi siano tutti quanti i mezzi necessari per riuscire a spostarsi in maniera tranquilla e autonoma senza l'imprevisto neanche troppo raro insomma di perdersi in giro nella città che è una cosa appunto su cui bisognerebbe a mio avviso molto concentrarsi e come ha detto Piera sì faccio parte dell'Unione Italiana Ciechi di Latina specialmente e diciamo che ho collaborato con loro per moltissimi eventi e ho avuto un modo di vedere in prima persona come le persone spesse volte reagiscono quando si trovano davanti una persona con disabilità visiva e diciamo che questo è un discorso un pochettino astratto perché vi racconto un'esperienza personale ma anche appunto di colleghi e persone che come ho detto prima mi sono vicine ehm prendiamo un esempio pratico quando si vanno a fare colloqui di lavoro e si si avvisa il titolare appunto il referente di tot agenzia o quello che sia che sia comunque una disabilità nel mio caso e nel caso di chi fa parte dell'unione visiva se dapprima il colloquio stava andando una meraviglia improvvisamente cambiano le acque perché dal momento in cui predisponi quella che è una ipotetica difficoltà già subito diciamo che la persona che hai dinanzi si raffredda un po' nel senso che non ti dà neanche più un modo di far vedere quanto vali o di farti dimostrare quello che effettivamente sai fare ma dal momento in cui appunto esprimi x difficoltà improvvisamente non sei neanche più un soggetto che va preso in considerazione e si parla tanto della inclusività sociale però alla fine è lo stato stesso e le persone che ne fanno parte che non te lo permettono o che comunque ti impediscono un attimino questo passaggio non ho c'è una voce che si è sovrapposta non ho ben capito quello che è stato detto scusaci scusaci giulia vai procedi pure abbiamo abbiamo provveduto a mutare i nuovi entrati vai vai pure no ci mancherebbe anzi allora mi sono persa scusate stavo dicendo personalmente in quanto appunto persona sia di tesso femminile sia con disabilità ho messo ho impiegato molto tempo nonostante abbia un da molto giovane perché ho soltanto 19 anni però comunque ho impiegato tanti anni della mia vita a cercare di trovare un mio piccolo posto nel mondo mettiamola così penso onestamente di avercela fatta a distanza di anni però penso di avercela fatta e sono molto felice di ciò nonostante io in prima persona mi renda conto guardando indietro al passato appunto quanto difficoltoso sia stato fare ciò perché diciamo che a qualunque attività una persona tende a proporsi o comunque a tentare di partecipare dal momento in cui appunto come dicevo prima si fa si fa presente una disabilità in questo nel mio caso visiva improvvisamente la reazione che le persone hanno è o una stato di freddezza dato dal fatto che non sanno come approcciarsi oppure una specie di status di pietà che è assolutamente ciò che una persona con disabilità penso non voglia ricevere perché è vero che sia una disabilità ma è vero che io rimango una persona quindi non voglio ricevere la tua pietà tua di individuo che appunto me la mostri e diciamo che i percorsi che l'associazione italiana cechi di latina ma italiana cechi in generale cerca di proporre è appunto la divulgazione e la conoscenza di quelle che sono più che altro di quelli che sono dei buoni modi di fare quando si quando ci si ritrova davanti ad una persona con disabilità perché anche appunto il progetto conosciamoci meglio che come stava entropeciando piera viene svolto nelle scuole dalle elementari fino alle superiori ovviamente con delle variazioni comprende un un percorso fatto nelle avole magne prevalentemente composto da tre differenti incontri in cui dei ciechi ma anche degli operatori che lavorano a fianco ai ciechi e degli accompagnatori stessi fanno quindi portano avanti ognuno con i propri campi con le proprie esperienze e con il proprio vissuto ad esempio noi comunque in questi tre incontri cerchiamo sempre per quanto riguarda il primo incontro di fare una specie di divulgazione introduzione generale a quella che è la disabilità e magari si lascia spazio agli alunni di fare domande curiosità di esprimersi comunque e di lasciare anche a noi spazio per esprimerci così da lasciarci conoscere invece nei secondi e nei terzi incontri si passa a qualcosina di un pochettino più tecnico appunto per quanto riguarda l'ambito scolastico perché per esempio si parla della questione tecnologica quindi dei pc delle dei tablet o comunque dei dispositivi che ci permettano lo studio senza dover adoperare necessariamente il cartaceo che può sembrare una cosa banale ma è assurdo vedere quanto ancora oggi appunto questo mondo sia totalmente sconosciuto agli occhi di una persona che fortunatamente ci mancherebbe non non ne sa niente quindi non è vittima di disabilità con ciò appunto concludo dicendo che vi ringrazio tantissimo per questa opportunità perché penso sia un evento strepitoso ringrazio marta per avermi fatto l'intervista e voi per avermi ascoltata spero che riusciremo tutti insieme a cambiare le cose e ad includerci meglio nella società e niente non vi rubo più altro tempo grazie mille grazie Giulia grazie della tua del tuo intervento dal quale abbiamo compreso che non solo sei vabbè molto giovane e questo mi fa un gran piacere che tu abbia già acquisito quell'empowerment di cui stiamo parlando dall'inizio di questo incontro e soprattutto della tua gran voglia di vivere e di trovare appunto quel posto nel mondo che ti compete che ti è dato di per diritto fra l'altro abbiamo capito nel tempo che ti ci è voluto e delle difficoltà che hai dovuto superare nell'affrontare ciò che ti è capitato ma soprattutto abbiamo compreso che è possibile uscirne che è possibile costruirsi una una vita anche in autonomia fra l'altro sono veramente importanti e adesso qui mi si accende l'anima da architetta le considerazioni che hai fatto sul tema della mobilità sul tema dei trasporti sul tema anche della relazione con gli altri sono sono sicuramente elementi fondamentali sul mondo dei trasporti credo che ci sia una letteratura infinita non poca tanta veramente tanta il vero problema è che le amministrazioni locali quelle regionali e quelle nazionali non intervengono in maniera adeguata pur sapendo che di che cosa ci sarebbe bisogno per poterli rendere realmente fruibili e utilizzabili da tutte e da tutti a questo punto passo la parola a Sara Carnovali Sara Carnovali è dottoressa di ricerca in diritto costituzionale è un titolo che ha conseguito all'università degli studi di Milano e si è abilitata all'esercizio della professione forense presso l'ordine degli architetti ed è consulente legale del centro antidiscriminazione Franco Bonprezzi è un carissimo amico che ormai non c'è più è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche in tema di diritti delle persone con disabilità fra questi menziono visto il contesto in cui ci troviamo solamente il corpo delle donne con disabilità analisi giuridica intersezionale su violenza sessualità e diritti riproduttivi il titolo della sua relazione è corpi e diritti umani delle donne con disabilità e che tratterà praticamente partendo dai suoi numerosi contributi forniti al gruppo di lavoro tratterà appunto l'inessenzialità del corpo delle donne con disabilità e come questo corpo subisca discriminazioni intersezionali che promuovono peculiari forme di violenza nel proprio vivere quotidiano che sono in qualche modo riassunte e sia lei che martina gerosa che partirà per ultima che sono mostreranno e ne parleranno probabilmente che sono riassunte nella ruota del potere e del controllo ne individua anche i fattori che sostengono questo stato delle cose fattori essenzialmente di natura culturale ancora una volta viene ribadito questo concetto e nell'odierna relazione invece affronterà non tanto la normativa quanto un'analisi restituzione dei diritti che interessano appunto la dimensione del corpo quale il diritto di libertà della violenza sia nella dimensione privata sia in quella pubblica quindi una dimensione sia diciamo materiale che immateriale grazie ti passo la parola sara e se hai delle slide da condividere allora mi sentite bene innanzitutto poi chi era ci chiederei un favore se puoi tenere il video ha attivato se non è un problema perché così io l'ho fisso e almeno mi sembra di avere un interlocutore più materiale davanti perfetto e almeno appunto poi cerco di stare appunto nel quarto d'ora che mi è stato assegnato non farti nessun problema nel caso in cui io appunto tra i miei appunti e lo schermo magari mi perda via quindi interrompimi tranquillamente quando mancano magari un minuto o due allora grazie mille eh sia fish di avermi fatto partecipare a questa comunità di pratica con eh professioniste che già in parte conoscevo e in parte invece che ho avuto la possibilità di conoscere in un lavoro che appunto ha come primo in realtà restituzione al pubblico questo convegno che eh e lo dico subito perché è in realtà parte dell'intervento per me è ne parlava anche con Martina Zerosa nei giorni precedenti o anche appunto di recente è davvero posso dire quasi emozionante nel senso che quando io ho cominciato ad occuparmi di questa eh questione scusatemi tacco il telefono Sara ci sei? Sara? Si è bloccata la connessione? Sara facevi la connessione tramite telefono toccandolo hai staccato la connessione si è bloccato Probabile sì C'è ancora qualche problema tecnico? È uscita probabilmente adesso rientrerà? Aspettiamo che rientri nuovamente Proviamo a vedere sì Intanto qualche piccola indicazione operativa eh abbiamo appreso che qualcuno è riuscito a entrare solo poco pochi minuti fa non vi rassicuriamo su questo non preoccupatevi in alcun modo perché metteremo poi a disposizione la registrazione di entrambe le parti della mattinata quindi sia la prima parte fatta sul primo canale sia questa Grazie Allora ma si è saltata la connessione e neanche la voce si sente? Ah è saltato tutto in casa Ah in viva voce al telefono No Martina è buon'ultima e niente se tu prova a questo punto farei così chiedo se ci sono degli interventi e delle domande e poi cerca di ricollegarti in qualche modo e se non ce la fai ti metto in viva voce dopo. Ho capito Ho capito Ok Va bene Sì sì lo so Lo so si può fare Ok ciao Allora Sara Carnovali in realtà le è saltata la corrente elettrica in casa per cui non riesce e non sa se sia un problema tecnico della casa o dell'intero quartiere per cui lei si rende disponibile a fare il proprio intervento in viva voce ovvero telefono a me io alzo il volume a massimo e metto in viva voce il telefono lo accosto alle mie cuffie e la Lei può parlare ovviamente non la sentiamo e io le ho proposto di aspettare un attimo nel frattempo andrei avanti chiedendo se su questa seconda sezione pur mancando l'ultimo intervento di Sara ci siano delle domande Delle considerazioni da parte di voi che state seguendo alle quali possono rispondere le relatrici che hanno già relazionato oppure considerazioni che non necessitano di risposte particolari Niente posso dire che dalla chat vengono sin dall'inizio tutta una serie di commenti più che positivi delle varie relazioni Mirko Fagilli in questo caso di ATS Milano È rientrata Sara Non è tornata Oh ci sei? Benissimo Cosatemi il bello della diretta come si dice Va bene allora riprendi pure No dicevo che appunto è molto bello ed interessante secondo me anche a livello politico come dire nel rapporto con le istituzioni questo seminario in cui come dicevamo all'inizio si realizza come ovviamente primo passo o uno dei primi di un processo che si spera che sia sempre più virtuoso in questo senso il tema della rappresentanza e autorappresentanza in maniera bilanciata e in una intersezionalità delle lotte mi spiego meglio io non sono una donna con disabilità e ci tengo a dirlo subito perché questo è un profilo essenziale nel senso che io non sono sicuramente altrimenti non mi sarei mai occupata di queste tematiche una fautrice del pensiero che pure viene portato avanti da alcuni sia in ambito sociologico che diciamo in parte anche giuridico per quella parte diciamo del diritto che si occupa dell'intersezionalità nel fatto che determinate tematiche diciamo se ne debbano occupare coloro che vivono in prima persona quella discriminazione o quella marginalizzazione sociale nel senso che io sono appunto del fatto che di discriminazione di diritto antidiscriminatorio se ne debbano occupare anche coloro che non vivono quella situazione di discriminazione cioè coloro che non hanno una complessità identitaria tale per cui hanno su di sé uno dei fattori discriminatori di cui si parla per esempio nel mio caso io sicuramente quando mi occupo di diritto antidiscriminatorio di genere in prospettiva di genere in generale sono parte in quel caso non della minoranza perché le donne sono la maggior parte del mondo ma diciamo di quella parte di mondo che in quel caso è la parte rispetto alle relazioni di potere uomini donne che è la parte ovviamente discriminata nel caso delle donne con disabilità abbiamo una discriminazione riprendendo diciamo la tematica portata avanti benissimo dalla dottoressa Durazzo con cui ha introdotto il tema delle discriminazioni multiple e intersezionali nel caso delle donne con disabilità io come dire non mi pongo all'intersezione tra i due fattori rischio discriminazione perché non ho la condizione di disabilità quindi in questo senso io sono anni che mi occupo di questo tema ma non sono parte non ho la componente autobiografica ora quindi seppure io considero il fatto che soprattutto poi anche in determinate professioni come quella giuridica che hanno necessità di alcuni tecnicismi non tutte le persone che si devono occupare di quel tema debbono sperimentare ovviamente sulla propria pelle la discriminazione tuttavia per riuscire ad avere delle politiche e della costruzione delle norme a livello di architettura normativa che sia davvero inclusiva non ci può non essere l'autorappresentanza quindi in questo senso intersezionalità delle lotte prendendo spunto dai movimenti femministi intersezionali e traslandola anche sul piano della creazione delle politiche anche normative cioè come si costruisce l'architettura normativa a tutti i livelli quindi a livello legislativo a livello di leggi quindi poi a livello governativo regolamenti su tutti i piani delle fonti del diritto e poi anche rispetto a linee guida che possono essere applicate nei tribunali e così via quindi questo è il punto fondamentale secondo me da cui bisogna partire e in questo senso avere dei consessi dei dibattiti dei panel che non sono in questo caso nel mondo femminista ti dice rimane il forse qualcuno di voi hanno sentito parlare di questo movimento boycott manel che boicotta in qualche modo i consessi che sono fatti solo ed esclusivamente ehm da eh composti solo da uomini anche su tematiche che magari che riguardano il genere femminile ecco in questo senso questo questo panel questo convegno non è sicuramente un ablaze panel perché non ci sono solo persone e donne senza disabilità che parlano delle tematiche di donne con disabilità questo concetto che astrattamente può sembrare una banalità non lo è perché io vi assicuro che è uno delle prime volte che mi trovo ad avere eh come dire come correlatrici tante quante cioè donne con disabilità non solo donne senza disabilità quindi questa è una cosa fondamentale riagganciandomi anche al discorso di Silvia Cutrera e eh su questo infatti secondo me la la eh come dire metafora famosissima di Timberley Crenshaw eh che è una sociologa e che poi in realtà questa questa sua eh dicitura dell'intersezionalità è stata poi adottata anche in ambito giuridico lei appunto quando parla di discriminazione multiple intersezionale Kimberly Crenshaw parla di questa intersezione tra due strade eh era nell'anno millenovecentottantanove la donna lei faceva riferimento alla donna di colore ma noi potremmo fare benissimo riferimento alla donna con disabilità quindi due fattori di rischio di discriminazione che compongono l'identità ehm della medesima persona del medesimo soggetto giuridico si trova all'intersezione di due strade e le strade eh diciamo vengono percorse dai veicoli della discriminazione eh uno è la discriminazione ehm basata sull'essere donna di genere quindi e l'altra è la discriminazione nel suo caso basata sulla razza origine etnica nel nostro caso basata sulla disabilità quindi la discriminazione impatta con forza moltiplicata perché si tratta di questi due veicoli delle discriminazioni sullo stesso individuo che presenta due anziché un fattore di discriminazione ora io mi permetto di come dire destrutturare questo ehm come dire la teorizzazione di Kimberly Crenshaw che è famosissima in punta di piedi ovviamente con riferimento alle donne con disabilità nel senso che secondo me questa metafora utilizzata anche a livello giuridico per la creazione delle norme secondo me non spiega tutte le discriminazioni eh relativamente quantomeno alle donne con disabilità perché questo tipo di discriminazione secondo me la metafora dell'intersezione tra le due strade viene spiegata ehm spiega bene quelle discriminazioni di tipo orizzontale cioè eh tra individui privati e quindi in questo senso spiega molto bene il fatto che io in quanto donna con disabilità vengo discriminata eh da un altro cittadino eh perché sono donna e al contempo persona con disabilità e ah beh vediamo bene eh non basta a dicionare le tutele cioè gli studi anche i giuridici hanno dimostrato che non si capisce nel caso delle discriminazioni intersezionali dove parte e dove finisce la discriminazione basata sul genere dove inizia anche quella sulla disabilità perché se no sarebbe facile io prendo sempre che ovviamente siano adeguatamente eh portate avanti e adottate le politiche per la discriminazione di genere da una parte vado a sommare quelle per le pari opportunità e l'inclusione delle persone con disabilità e ho finito invece non è così e poi ci ritorniamo quindi la discriminazione diciamo l'incrocio spiega bene secondo me la discriminazione tra privati ma non spiega la discriminazione forse più suddola e più difficile non soltanto da sia da vedere e quindi anche di conseguenza da contrastare che è la discriminazione a livello verticale cioè quella istituzionale quella di non prendere in considerazione quando si creano le norme le discipline quando si creano le linee guida dovunque che siano a livello politico che siano a livello di rassi dei tribunali e così via non prendere in considerazione il fatto che si è davanti sì a una donna ma anche a una donna con disabilità e giustamente viene scritto adesso in chat il famoso vecchio motto della fisce nulla su di noi senza di noi è esattamente questo e questo però è sul tema della autorappresentanza e secondo me questo eh però deve essere portato avanti anche dalle persone come la sottoscritta che non presentano quella complessità identità identitaria quindi il motto se niente su di noi senza di noi è vero va portato avanti però perché sia efficace da tutta la società civile sia che presenti quel fattore di rischio su di sé oppure no ed è in questo senso che io mi sono anche rifatta per esempio al tema dei boycott manel che magari sembra che non c'entri nulla ma invece c'entra nel senso che bisogna anche che chi non ha quella complessità identitaria faccia valere la propria voce rispetto per esempio alla non partecipazione a dei consessi che non adeguatamente non rappresentano coloro che vivono in prima persona con la discriminazione faccio un esempio io non sto più partecipando da tempo dopo un po che ho visto determinate questioni a dei panel che io ritengo abilisti è evidente che io non vivo in prima persona quella problematica dell'esclusione perché vengo invitata ma io non sono una donna con disabilità quindi se in quel consesso non sono adeguatamente rappresentati nel senso che non c'è nessuna oppure ce ne sono c'è qualcuna donne con disabilità oppure in generale se non si tratta di un tematica di genere persone con disabilità io li non andrò a relazionare e in questo senso però bisogna ovviamente essere costruttivi in questo senso io sto uscendo dal mio essere giurista tecnica e qui ho messo in i miei panni di attivista cosa che sono infatti io mi definiscono a giurista attivista e quindi proporre nomi di persone competenti perché il tema è sempre il bilanciamento tra la competenza cioè mi serve una giurista che si occupi di quelle tematiche chiamo la giurista esperta di quella tematica quindi bisogna sempre chiedersi ovviamente se per portare avanti determinate tematiche c'è la competenza ma ci sono fior fior di donne con disabilità e le abbiamo viste qui cioè perché qui siamo perfettamente bilanciate che ne sanno che si sono formate architette professoresse accademiche così via quindi per tornare in questi pochi minuti che rimangono al mio tema quindi questo è il tema della discriminazione istituzionale e restano quattro minuti quattro minuti sì ce la facciamo ehm il tema della in essenzialità che ho cercato di spiegare a questo proposito cioè ho preso diciamo il la palla al balzo col convegno eh per spiegare tutto il tema che secondo me eh con un esempio proprio pratico della discriminazione istituzionale cioè il cuore cioè è la fonte dell'invisibilità perché poi se ci sono i tavoli di lavoro anche nei ministeri e le donne con disabilità non stanno sedendo a quel tavolo capite che è sempre il solito ehm serpente che come dire si morde la coda e non non se ne esce quali sono le conseguenze di questo? Ne ha spiegato benissimo prima la dottoressa Morandi il mancato accesso ai servizi sanitari legati a salute sessuale e riproduttiva io penso sì che l'ospedale deve essere accessibile ci sono le norme perché l'ospedale sia accessibile si entra al reparto di ginecologia sì sempre che giustamente ehm chi era l'architetta storce il naso diciamo che almeno a livello perché poi c'è l'altro tema gigantesco il gap tra la norma e l'applicazione allora diciamo che a livello diciamo astratto l'ospedale magari è anche accessibile poi bisogna vedere come concretamente viene posta in essere però ma il tema è che nel si entra al reparto di ginecologia e non lo sto dicendo io lo dicono gli studi per esempio quello del gruppo Donny Fish ma tanti altri ehm l'accessibilità scompare e io all'inizio mi sono posta a questa tematica ma come è possibile il tema è sempre quello è eh il tema dell'invisibilità cioè quando si fanno le norme non c'è adeguatamente attenzione alla complessità identitaria per cui io mi aspetto io che non conosco in profondità le istanze delle donne e i bisogni delle donne con disabilità non mi aspetto perché questa è la verità bisogna dircela fino in fondo che lì dentro entri una donna sì certo ginecologia e ostetricia ma non con disabilità e quindi non c'è il sollevatore non c'è il non c'è un eh uno spogliatoio accessibile non ci non c'è personale formato per le movimentazioni che se che ci sono persone appunto che non sono formate a movimentare una persona con disabilità motoria cioè è è è un problema è pericoloso gli apparecchi per effettuare la mammografia sono fatti adesso non so se la scienza è andata avanti magari correggetemi se sbaglio sono fatti per fare la mammografia con ehm diciamo posizione retta quindi cioè capiamo qual è il tema io sto uscendo anche dal tecnico giuridico perché adesso fare l'elenco delle norme quelle le si le potete recuperare da voi però questo è il tema io però in questi due minuti che ormai saranno rimasti eh ci tengo a dire che qualcosa si sta muovendo cioè rispetto all'inizio quindi vorrei chiudere con una chiave di speranza nel senso che eh qualcosa si sta muovendo perché sono state approvate anche in attuazione della convenzione delle Nazioni Unite due riferimenti li do c'è l'articolo sei della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che obbliga gli stati membri a porre in essere politiche che siano realmente inclusive delle donne con disabilità e che si eh siano efficaci nel combattere la discriminazione multipla attenzione perché vediamo come a questo punto multipla la discriminazione multipla non è più un concetto solo sociologico come era all'inizio ma è un concetto normativo e questo fa fare il gap successivo quindi lo Stato lo deve fare non è che è la sociologia che glielo dice al diritto internazionale e poi ci sono tutta una serie di riferimenti molte altre norme come dire il compromesso a rialzo durante i come dire i negoziati per l'attuazione della scusate per la scrittura della convenzione ONU delle Nazioni Unite è stato inserito un articolo specificamente dedicato alle donne con disabilità l'articolo 6 e poi in tutto il dettato relativo all'ambito della violenza dei diritti sessuali dell'accessibilità e così via ci sono continui riferimenti al genere ora se a livello istituzionale si leggesse anche solo in combinato disposto come è strutturata la convenzione delle Nazioni Unite questo sarebbe già una modalità di normare che è realmente inclusiva i passi a cui facevo riferimento prima in positivo che sono stati fatti e qui concludo sono l'approvazione l'anno scorso di quattro mozioni sulle donne con disabilità sulla lotta che quindi impegnano il Parlamento scusatemi impegnano il governo ehm sulla lotta il contrasto alle discriminazioni multiple sulle donne con disabilità ehm e che sono state votate all'unanimità ora la mozione di per sé non è non dà un dato diciamo direttamente ehm efficace però è fondamentale anche per quello che verrà compiuto in seguito e a questo proposito non so se tutti sanno quindi sempre ovviamente con tutto eh la cautela possibile perché l'itere è ancora in corso quindi non sappiamo se poi effettivamente verrà approvata ma il DDL eh contro i crimini d'odio è stato approvato con ehm alla Camera ehm e adesso è passato al Senato e ehm e questo devo dire anche grazie al lavoro dell'associazionismo io ho avuto anche l'onore di contribuire a questo con i miei colleghi le mie colleghe del centro antidistriminazione eh Franco Bonprezzi e anche Fisce nazionale soprattutto ehm e diciamo abbiamo anche seguito un po' i lavori della eh della Commissione almeno nell'ultima parte e eh sono stati approvati anche appunto grazie possiamo dire alla spinta dell'associazionismo degli emandamenti a prima firma noia che hanno incluso oltre alla eh quindi razza origine etnica ehm opinioni personali e religiose il genere l'identità sessuale scusatemi l'orientamento sessuale l'identità di genere anche la condizione di disabilità rispetto alla quindi come fatti specie autonoma di reato quindi la discriminazione o violenza motivata quindi non sulla persona con disabilità che vede la persona con disabilità come diciamo destinatario della condotta ma qui attenzione il reato il crimine d'odio è motivato dalla condizione di disabilità della persona e anche l'aggravante e concludo questo secondo me è fondamentale sempre appunto incrociando le dita che si arrivi davvero all'approvazione del testo perché col fatto che c'è nell'elencazione dei diversi fattori di discriminazione ci sarà anche il genere accanto alla disabilità forse questo potrebbe eh portare il nostro ordinamento anche ad una più eh forte come dire ed efficace lotta e contrasto alle discriminazioni multiple intersezionali e ho concluso grazie Sara eh intervento appassionato mi è piaciuto eh così come vedo che insomma piace a diversi e niente il tuo intervento ehm credo che punti gli occhi soprattutto giustamente visto anche le competenze che hai su questo tema della discriminazione multipla verticale cioè quella pubblica e quanto sia importante agire su di essa eh tramite appunto non solo azioni politiche no prima ti sei definita anche un attivista da questo punto di vista e dovremmo diventare tutte delle attiviste ma anche eh sulla realizzazione di nuove e diverse norme nuovi e diversi riferimenti eh normativi eh che consentano di contenere in maniera chiara appunto il il tema della discriminazione multipla e dell'intersezionalità che questa poi promuove e produce eh solo niente spiego solo nel mio così tentennare sul tema degli ospedali accessibili e eh mi riferisco in modo particolare all'applicazione della norma ecco nel caso delle norme tecniche le norme tecniche eh specifiche eh sono norme vabbè non solo vecchie mi permetto di dire e non più eh riadeguate rinnovate ma qualunque norma tecnica su questo ambito cioè l'ambito dell'ambiente costruito possa intervenire non raggiungerà mai eh la risoluzione della complessità della nostra società cioè delle esigenze che la complessa società in cui viviamo esprime e può esprimere per cui l'approccio in realtà eh da mantenere sempre alto anche in tema appunto di eh servizi come quello degli ospedali ma non solo penso anche ai centri antiviolenza alle case rifugio e così via è un approccio più di natura prestazionale ovvero che cos'è che si chiede a quello spazio affinché a quella quell'allestimento a quegli oggetti affinché sia reso effettivamente fruibile usabile sicuro e così via eh a questo punto io lascio la parola alle partecipanti e ai pochi partecipanti maschi se eh vogliono intervenire con qualche considerazione riflessione io ho letto alcune difficoltà posso interromperti Piero? Sì prego prego ho visto nella chat nelle varie commenti che a un certo punto eh ha ha commentato anche eh se puoi intervenire ma insomma sei tu la moderatrice quindi valuta tu è l'avvocato Laura Abet perché io ho fatto riferimento al centro antidiscriminazione Franco Bonprezzi e magari appunto lei giustamente voleva sì infatti ho visto chiede di poter intervenire infatti sì infatti era lei che mi riferivo e l'andavo a cercare bene grazie se può attivare il microfono mi sentite? Ecco adesso sì perfetto grazie eh grazie di questa piccolissima opportunità grazie a tutti gli interventi fatti finora super interessanti e toccanti. Eh due parole su Franco Bonprezzi perché essendo responsabile del centro a lui dedicato eh mi emoziona sempre parlarne visto che è stato citato eh mi inserisco ma rubo veramente soltanto eh un minuto per dire eh che cosa facciamo e soprattutto eh perché tutte le donne perché tutti i temi che voi avete toccato e toccherete questa mattina possano essere eh raccolti dal nostro centro antidiscriminazione che possa diventare quindi la vera voce nelle discriminazioni che le donne, le ragazze, bambini, bambine eh e tutti gli altri chiaramente eh possa eh emergere. E il abbiamo all'interno del gruppo di Dileda e del centro appena fatto nascere un gruppo donne antidiscriminazione partecipiamo e abbiamo partecipato al piano antiviolenza 2020-2023 eh della regione Lombardia insieme alla nostra eh consigliera e tesoriera eh Luisa Bosizio Fazzi quindi il lavoro che il centro discriminazione fa è veramente eh tantissimo e il nome sì di Franco Bonprezzi che è stato geniale nel nel farci lavorare eh insieme a lui io sono vent'anni che sono all'interno del del centro e devo a lui veramente tantissime eh illuminazioni è stato una guida fantastica e il lavoro che noi facciamo eh siamo due o tre eh avvocati e chi poi ha collaborato con noi è rimasto senza dubbio sempre eh un po' colpito come Sara che mi partecipa eh da poco eh però noi che ci lavoriamo veramente da tanti anni devo dire che eh facciamo questo lavoro con veramente tanto tanto eh entusiasmo quindi quello che voglio dirvi è eh scrivete a antidiscriminazione che ho cioè a leda punto it tutte le volte che avete eh bisogno perché eh anche soltanto per far emergere la questione perché per noi è eh fondamentale. Volevo dire soltanto questo e grazie per la giornata. Complimenti a tutti. Non riesco a riattivare il video. Ecco scusate non non prendeva il click. Eh mh niente ringrazio ringrazio dell'intervento. Eh anch'io ho un più che ottimo ricordo di Franco Bonprezzi col quale sono già stata in relazione per molti anni e non posso che appunto salutarlo anche se non è presente purtroppo con grande rispetto e grande affetto. Eh mh ha insegnato molto a tutte e a tutti. Eh mh notavo comunque una cosa da femmina da vecchia femminista con ancora la scopa fra le gambe che tutte noi pur essendo in un consesso di donne utilizziamo sempre il maschile. Eh le relatrici sono i relatori. Eh parliamo dicendo tutti anziché tutte e tutti eventualmente cioè c'è ancora un po' questa abitudine a non considerarsi anche tramite la lingua donne presenti diciamo sul piano politico e relazionale eh in maniera autonoma. Eh niente scusate il pistolotto ma mi sentivo di doverlo fare e se non ci sono altri interventi eh passo e alla all'ultima eh sessione eh che è composta da altre tre relazioni e chiedo a Oria Gargano, Gargano anzi mi scuso ho 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 provato a a sentire come si pronuncia il suo cognome eh a Oria Gargano di attivare il microfono e il video è la presidente di BeFree che è una cooperativa sociale nata nel 2007 il cui scopo è il contrasto ai fenomeni sociali della tratta della violenza e della discriminazione di genere. Da dieci anni BeFree garantisce all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma lo sportello donna aperto tutti i giorni ventiquattro ore su ventiquattro. Il titolo del suo intervento è l'elefante rosa seduto in salotto. È il titolo più criptico dell'intera mattinata e ho cercato di eh analizzare che cosa fa BeFree per poter presentare la sua relazione e penso che illustrerà il moto nel metodo di lavoro con cui BeFree affronta l'aiuta l'aiuto che fornisce alle donne e per meglio introdurlo userò alcune parole di Gargano. È un metodo calidoscopico questo mi è piaciuto molto devo dire ed è basato sulla non rivittimizzazione e non standardizzazione dei casi. Ecco soprattutto la non standardizzazione dei casi è un elemento fondamentale secondo me importante senza dimenticare che quelle storie di violenza spesso nascono da storie d'amore e bisogna ripercorrerle per un progetto personalizzato di empowerment. Eh niente le lascio la parola e grazie. Grazie a voi e davvero eh sono stata con grande attenzione ad ascoltare tutti gli interventi. È una eh è una questione una materia un po' nuova per me quindi ho imparato moltissimo da tutte e da tutti in questo caso perché anche alcuni uomini sono intervenuti e di questo vi ringrazio. Eh l'elefante rosa nel salotto è una frase che in realtà ho usato anche nel piccolo pezzo che mi avete chiesto di scrivere per la pubblicazione e deriva da tutta una serie di considerazioni che dico la verità in parte discendono direttamente dal tipo di metodologia che eh Bifri da tredici anni non da dieci eh mette in atto e che sono appunto basate sull'empowerment e molto attenta a non rivittemezzare e a non schematizzare ma anche da storie personali storie di donne che sono venute eh nei nostri centri noi gestiamo centri antiviolenza e case rifugio su diversi territori qui nel Lazio sia Roma più vicino Viterbo e poi in Abruzio e poi in Morise e quindi l'esperienza è molta e ci sono state delle donne che sono venute a chiederci un sostegno avendo anche quest'altra forma di discriminazione dico quest'altra forma perché è evidente non mi sembra il caso di andarlo a sottolineare che è una discriminazione che si insomma con le altre innumerevoli discriminazioni che derivano dall'essere donne e quindi quello è un terreno comune quello è un terreno su cui noi possiamo parlare dopo tutto anche io come Piera Nobili sono cresciuta nel femminismo fin da ragazzina per me è stato normale andare in piazza per esempio per i diritti delle donne lesbiche essendo io ehm terribilmente eterosessuale come mi disse un'amica e nello stesso tempo avere le donne lesbiche a sostenere il mio diritto ad abortire anche se era una circostanza che difficilmente potevano pensare per la propria vita è chiaro che un femminismo sincero radicale profondo antagonista perché questo è il femminismo sorvola su quelle che possono essere le differenze ma non le nega forse c'è anche il fatto che voglio accennare velocemente perché sicuramente non l'ho scritto nel piccolo contributo che vi ho dato ma mi sembra che a questo punto e anche ricordando un po' le regole le norme le le lezioni direi piuttosto del femminismo che si concentrano molto nel partire da sé io dirò anche che forse la mia vita mi ha insegnato a capire qual è la disabilità cosa significa a collocarla nella vita quotidiana la mia più cara amica a tempi dell'asilo inciampava nella corda quando si saltava a corda la prendevamo in giro per questo aveva la ritente pigmentosa oggi è cieca e con lei con una grandissima relazione con un grandissimo affetto ho capito come è importante approcciarsi senza barriere ma guardate che questo non succede solo con le donne disabili nel nostro lavoro noi troviamo delle difficoltà a capire senza avere un atteggiamento giudicante senza avere un atteggiamento etero direttivo tutte le donne che vengono tutte le donne che vengono fanno una fatica enorme a autodefinirsi vittima di violenza è una pietra tombare su tutto quello che è il loro sogno d'amore pubblicizzato da tutti i media che abbiamo disponibili sempre con un'ottica patriarcale sempre con l'ottica della principessa e del principe così antica ma così profonda e così crudele tutte queste donne recalcitrano a denunciare l'uomo che le ha fatte soffrire fanno una grande fatica a mettere insieme due concetti ovvero l'amore che c'è stato e che questo c'è e il reato e non è facile poi interverrà carla quinto l'avvocata di b free che racconterà sul piano pratico giuridico eh forense come tutto questo si con si concretizza il nostro è il lavoro delle operatrici noi siamo quelle che aiutiamo le donne a ricostruire quello che è accaduto eh basandoci appunto su una logica che non è eh massificante sono contenta che abbiate anche eh citato l'esperienza del San Camillo dell'ospedale San Camillo che è il più grande ospedale sopra i più grandi ospedali di Roma e che è poi il motivo per cui eh mi conosco bene con Vittoria Doretti che anche io saluto ora che tocca a me parlare quello è un presidio in cui vengono eh circa tre quattrocento donne l'anno e sono tutte donne che non volevano assolutamente ancora fare questo passo doloroso di andare in un centro antiviolenza sono tutte donne che vengono all'ospedale nell'acuzie di una aggressione appena subita e trovano noi e la sorpresa di trovarci insieme alla lettura profonda che sono in grado di fare e che sarebbe sinteticamente se un ospedale così importante si dota di un servizio così evidentemente quello che io subisco non deriva solo solo dal fatto che io sono stupido ho sbagliato marito non ho saputo cogliere eh gli indicatori ma è un problema sociale e la società se ne fa carico perché l'uscito perché effettivamente forse la maggior parte delle donne con disabilità che sono venute ai nostri servizi viene proprio dal San Camillo sia perché come tutte le altre donne hanno subito delle aggressioni si sono recate al triage e sia perché hanno magari più consuetudine nel venire ai servizi eh dell'ospedale tutti i reparti in realtà eh collaborano con lo sportello donna e quindi segnalano eh la nostra presenza perché possa essere utile a queste donne rimetto e ma credo che voi lo sappiate molto bene la percentuale delle donne con disabilità che vengono in generale ai nostri servizi non è alta ne abbiamo seguite sono stati come dire progetti di senso ma io non credo che superano il dieci dieci per cento forse ma in un contesto in cui le donne in generale che vanno nei servizi antiviolenza sono il tre quattro per cento di quelle che debbono venire quindi voglio dire vorrei collocare questa eh questo dato in un contesto generale in cui anche se fa molto fatica ehm eh si si fa molta fatica a comprenderlo cioè B3 non vede meno di mille donne l'anno in tutti i servizi che ho detto le nostre colleghe tutte le nostre associazioni in scienze antiviolenza in Italia siamo anche in web e quindi abbiamo la possibilità di parlare con le colleghe di tutta Europa ecco tutte le altre ne vedono più o meno quante noi e quindi noi parliamo di una grande massa di donne in generale che tuttavia rappresenterebbero solo il tre quattro per cento di quelle che avrebbero invece veramente eh la necessità di cambiare la loro vita facendo questo passo allora noi capiamo che c'è una narrazione che impedisce alle donne normodotate o meno di andare a prendersi cura della loro situazione sicuramente ci sono dei fattori culturali profondi accennavo all'amore romantico come viene commercializzato ma parliamo anche delle difficoltà oggettive parliamo del delle altre discriminazioni che sono quelle dell'accesso al lavoro dell'accesso al reddito il lasciare il lavoro perché si è avuto un bambino abbiamo visto quante donne non sono tornate al lavoro l'anno scorso dopo la maternità figuriamoci quest'anno con la questione del covid eh il guadagnare di meno insomma le discriminazioni da approcciare da affrontare con un'ottica politica radicale sono tantissime ovviamente ci sono situazioni in cui valgono anche di più valgono anche doppio queste e noi lo capiamo benissimo il nostro lavoro è quello di aiutare le donne a fare quello che loro vogliono fare profondamente nonostante tutte le difficoltà che incontrano e allora cosa facciamo quando queste donne ci hanno eh così ci hanno gratificato nello scegliere di venire da noi andiamo incontro a loro come facciamo con tutte con un'ottica empatica eh un'ottica che non è mai sostitutiva non non dico mai tu devi fare questo facendo riferimento a quello che io farei tu devi fare quello che insieme noi sosteniamo ci piace sempre dire che non facciamo mai i progetti personalizzati per le donne tantomeno sulle donne noi facciamo con le donne non esiste un progetto standard ciascuna donna ha la sua situazione ha le sue risorse e insieme si fa un balance di quello che è la problematica e di quelli che sono gli strumenti per superarla in tutta questa disamina ma certo che una disabilità ha il suo ruolo noi non abbiamo mai una un approccio né borghese né mater né maternalistico se così posso dire sappiamo anche che la disabilità e non non ho paura di parlarne non essendolo e credo che non so mi darete ragione o no ma mi farà piacere molto interloquire e proprio facendo anche riferimento alla mia amica d'infanzia che ancora la mia più grande amica so molto bene come eh il fatto di non essere diciamo così normodotate può influire su tutta la vita e la vita professionale e la vita affettiva e come se ci si percepisce infatti ho apprezzato tantissimo l'intervento di giulia di luce siesta che ci dà uno schiaffone che ci ricorda come si può essere protagoniste e che c'è anche 19 anni e quindi come dire eh questo è anche un elemento importante sia per capire perché così forte e così sostenuta anche dalle compagnie di luce anche da bifri che lavora tanto con luce ma anche eh una forma di speranza per un futuro in cui questa consapevolezza potrà essere più eh più diffusa e io l'ho visto con Eva l'ho visto con Eva che è una donna fantastica eh però come la sua vita è stata diversa dalla mia come quello che per me era semplice per me non lo era anche nella famiglia da poco eh ho consapevolezza di molti appunto che sono atlete paralimpiche che non ha che non si pongono dei limiti ulteriori ma so molto bene che la mia amica ha avuto una vita diversa dalle sue sorelle per esempio ehm quando poi tra l'altro hai un marito che è una persona veramente fantastica ma quando vengono le donne da noi e nessuna donna che viene da noi ha un marito fantastico ovviamente si percepisce che oltre al come dire all'ammantarlo di appunto il principe azzurro di cui dicevo prima che avviene in tutte le vicende che ci vengono raccontate e che ne è parte importante nel loro caso spesso c'è anche questa percezione diffusa della famiglia del gruppo amicale che quest'uomo alla fine è un eroe è un eroe che si è sobbarcato io lo dico con grande franchezza perché ce lo raccontano e vorrei che voi mi diceste se siete d'accordo o no perché so molto bene che poi bisogna interagire interloquire su questi temi che possono sembrare come dire poco eleganti ma le femministe non sono eleganti le femministe hanno cercato di buttare tutto per aria stanno ancora cercandolo e io penso che un pochettino ci sono anche riuscite allora questo uomo così generoso che si accolla si dice a Roma questa situazione è poi un farabutto che fa delle cose orribili per le quali le donne soffrono intensamente ma vi assicuro che tutti gli uomini le cui donne vengono le cui mogli compagni vengono da noi hanno questa doppia faccia ed è profondamente ha diffuso questo e va capito quando li vediamo nel tribunale perché l'avvocata carla quinto le altre avvocate del nostro pool giuridico ci chiamano in tribunale a fare quello che si chiama il test di relata cioè a raccontare al giudice e a pm a tutti come la signora arriva dal servizio cosa ci ha raccontato le psicologhe fanno anche la relazione sul danno insomma tutta una serie di cose attinenti al nostro lavoro noi li vediamo questi uomini questi uomini di cui sappiamo tutto perché abbiamo preparato le denunce con le donne abbiamo fatto i colloqui la raccolta fatti e vi assicuro questi uomini appaiono assolutamente irreprensibili ben messi ben integrati nel contesto che può essere parentale sociale lavorativo ecco perché le donne non sono credute per questa doppia immagine doppia faccia jackie landaide effettivamente di uomini che per di più gestiscono la violenza soltanto all'interno delle mura domestiche e mostrano all'esterno un volto invece irreprensibile motivo tra i tanti per i quali le donne non denunciano non vanno i centri non vanno neanche dalla polizia ci vanno al sette per cento perché pensano di non essere credute e non hanno torto perché è difficile che le donne siano credute ecco perché quando poi nella circostanza la donna ha anche una una disabilità rispetto alla norma è chiaro che che il suo timore di non essere capita addirittura ce l'hanno raccontato di essere giudicata un ingrata di essere giudicata una una folle pure al san camillo dove facciamo tanta formazione medici agli infermieri alle persone del triage che poi il triage è veramente fondamentale perché le donne vengano da noi ecco anche in quelle formazioni noi insistiamo tanto sulla percezione profonda che sia delle della questione mondiale della violenza di genere che è una violazione dei diritti umani ma che spesso viene preso come l'intemperanza dell'uomo che non sopporta più l'insopportabilità della donna ancora tutt'oggi è dentro moltissime moltissimi di noi forse anche noi non a caso noi facciamo supervisione clinica supervisione tecnica continuamente aggiornamento formativo e professionale è chiaro che vorrei andare verso come dire a concludere perché mi pare che ci sono molti interventi ancora ma quello che vorrei dire per finire che per noi per bifei quello che è importante è capire insieme alla donna anche quello quale ruolo la non conformità con il modello di normalità ha rivestito nella vicenda della quale ci viene a parlare e però riuscendo a contestualizzare tutto questo in un progetto che la vede intera cioè non quella definizione assolutamente no anche quella ma intera come sentimenti passioni sessualità progettualità problematiche sogni illusioni delusioni e tutto sommato anche l'operatrice perché il mestiere dell'operatrice vi assicuro non è semplice ecco perché appunto noi abbiamo tra l'altro come cooperativa sociale tutte operatrici dipendenti a tempo determinato indeterminato garantite riconosciute non sfruttiamo il volontariato proprio perché pensiamo che anche l'empowerment debba riguardare anche le donne e che se tu non sei sufficientemente impaurizzata ma come puoi pensare di aiutare l'empowerizzazione di un'altra donna e comunque quest'operatrice che posso essere io che può essere marta che qui che possono essere altri circa 90 che lavorano per noi hanno gli strumenti per riuscire a contestualizzare in un sistema queste criticità e tutto questo alleggerisce il peso della relazione d'aiuto perché non ci dimentichiamo che noi partiamo dal dalla consapevolezza che poiché lavoriamo in ottica di relazione politica tra donne noi partiamo dalla consapevolezza che quello che succede a te donna che in questo momento normo non dotata se di fronte a me qualcosa che può succedere può essere successo potrà succedere in futuro anche a me perché siamo entrambe in questa situazione di genere quindi di diversità nel senso di discriminazioni generali di tutte noi però è anche chiaro che io debba avere degli strumenti forti per sistematizzare anche attraverso il colloquio gli elementi i fatti che emergono in quel colloquio perché in quel colloquio quella donna lì a me parla di sessualità di sogno di progetto di figli di amore di delusione di gelosia di tradimento parla di tutte cose che sono mie come di tutte le altre donne che io conosco e quindi per non come dire per essere professionali per fare veramente per definire veramente dei percorsi personalizzati di di promozione sociale per devittimizzare le donne animate tutte da un sincero desiderio di elaborare i meccanismi che le hanno fatte cadere vittime della violenza e anche dalla consapevolezza che non debbono scivolare mai più in quel terreno vischioso è chiaro che hanno a disposizione tantissime cose tantissime consulenze legali psicologiche educative e gruppi dato aiuto ehm occasioni culturali insomma veramente sostegno alla generale alla genitorialità veramente molti strumenti ma soprattutto un obiettivo altissimo su ogni progetto cioè aiutare ciascuna donna ad emergere dalla situazione di difficoltà e realizzare una vita personale soddisfacente ti chiedo di concludere ho chiuso è l'ultima cosa che sto dicendo grazie era proprio e guarda arrivavo proprio adesso nel senso che non è un come dire un obiettivo facile ma noi donne abbiamo la testa dura ho finito grazie grazie veramente era perdona mi volevo fare un attimo una comunicazione tecnica sì per quanto riguarda la registrazione non serve che mi lasciate la mail perché potete accedere al link che vi ho appena condiviso vi rimanderà al sito e potete scaricare la registrazione di tutta la giornata da lì d'accordo grazie 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 eh ringrazio oria oria gargano l'accento mi verrà prima o poi corretto e niente eh del del mi ha fatto venire in mente il suo intervento un testo che ho letto molti anni fa devo dire come nasce il sogno d'amore scritto da lea melandri un testo fondamentale per capire questo doppio sguardo sul sogno d'amore ovvero eh da un lato appunto quello che eh in qualche modo eh tutta la nostra cultura ci invita a sognare ma dall'altra parte che eh come questo sogno sia in realtà una copertura anche dell'aggressione da parte dell'uomo e vi invito per chi non l'avesse letto a leggerlo in sostanza eh l'altra cosa che volevo sottolineare dell'intervento di oria è che eh appunto questo questo rapporto eh tu per tu molto stretto eh che parte dalle necessità dalle esigenze dal dal desideri dalle potenzialità anche parliamo anche di questo eh delle donne che si rivolgono ai centri in un percorso di condivisione eh e non di sopraffazione fra virgolette lo ritengo estremamente interessante e penso che sia un atteggiamento che molti centri eh hanno in questo senso ma l'altro aspetto che mi fa piacere aver sentito è che questo tipo di attenzione rispetto ai diritti delle donne eh non sia solamente rivolto alle donne che accedono al centro ma anche alle donne che vi lavorano credo che sia molto importante eh aspetterei lo spazio del dibattito per poi dare parola alle molte eh chat che sono che sono presenti eh in relazione appunto al tuo intervento oria e adesso passerei la parola a Carla Quinto che è avvocata responsabile dell'ufficio legale di Bifri come diceva appunto oria poc'anzi eh da più di dieci anni offre assistenza legale alle vittime di violenza fisica psicologica sessuale ed economica il suo lavoro consiste nell'accompagnare le donne maltrattate nel luogo e spesso nel lungo scusatemi spesso doloroso percorso processuale eh il suo intervento ha il titolo l'accesso alla giustizia per le donne con disabilità sopravvissute a violenza eh Carla Quinto in un'intervista chiarisce che la donna non è un soggetto debole ma vulnerabilizzato dalla violenza e descriverà appunto la qualità dell'accesso alla giustizia e le sue manchevolezze in relazione alla prevenzione del fenomeno della violenza da un lato e in relazione ai pregiudizi che abitano le aule dei tribunali. A lei la parola. Se può attivare l'audio e il video? Sì sì mi sentite? A Doria di chiudere il suo o a chiunque lo abbia acceso perché ha un ritorno in cuffia. Grazie. Bene buongiorno a tutti. Non la sento più. Mi sentite? Sì adesso sì. Bene. Salutavo tutti e ringraziavo le organizzatrici e ovviamente ehm. La comunicazione si è bloccata. Ci sente? Carla Quinto riesce a sentirci? Carla è connessa ancora ma ehm. Per qualche ragione non si sente più il suo audio. Potete provare? Carla ci senti? Nel caso prova ad uscire e rientrare Carla. La sto provando a chiamare comunque. Grazie. Chiara intanto posso dire che ci sono dei feedback estremamente positivi riguardo tutti gli interventi, tutta la giornata. Ho letto anch'io. Sì. Ho letto anch'io. Molto interessanti anche. Ehm. Altrimenti darei la parola a Martina Gerosa in attesa che Carla si riconnetta perché sono già le 12.56. Sì. E Carla sta provando a riconnettersi perché è caduta la linea. Ho capito. Sta facendo un tentativo se vogliamo sì approfittare e andare avanti. Lei ha detto che per lei va bene. D'accordo. Allora io andrei avanti perché appunto sennò rischiamo di non avere gli spazi giusti. Allora darei la parola a Martina Gerosa. Martina se ci sei apri il microfono e il video. Ecco. E Martina Gerosa, amica da anni, architetta urbanista, disability and case manager, accessibility manager. È impegnata da sempre nella società civile milanese, si occupa di ambiente e diritti dei cittadini. Dal 97 si occupa di tecnologie per l'udito e di soluzione per l'abbattimento delle barriere sensoriali. È co-formatrice molteplici contesti e co-progettista di eventi e iniziative. Collabora con associazioni, scuole, aziende e istituzioni, oggi in particolare con la fondazione Pioistituto dei Sordi di Milano e con la cooperativa caparlante GOG e MAGOG di Bologna con cui ha avviato il progetto Passin. La sua relazione ha il titolo La comunicazione accessibile. Ci parlerà di come relazionarsi alle donne con disabilità sensoriale e plurisensoriale, di come attivare una corretta e comprensibile comunicazione con loro, in pratica quali ausili, tecnologie e linguaggi utilizzare. Grazie Martina, a te la parola. Buongiorno a tutte e a tutti. Mi sono emozionata tantissimo stamattina ad ascoltarvi, in particolare le compagnie dell'Archipelago delle Disabilità, perché come diceva Sara Carnovali, prima e oggi siamo veramente numerose. a partire dalla paladina Silvia Cutrera, che è tra quelle più in là negli anni con l'esperienza, ma so che sono collegate a noi anche tante altre amiche e compagnie che da una vita portano avanti queste battaglie, in primis la battaglia di esserci, di stare in mezzo alle situazioni. e oggi ho un tema molto specifico da affrontare. Dato che siamo alla fine di un'intensa mattinata, che è l'attenzione chiaramente cala, ho pensato di preparare qualche slide, così da poter proprio risolvere l'attenzione di tutti. chiedo perdono fin d'ora a chi, come Simonetta Cormaci, che è stata nel gruppo di lavoro di questi ultimi mesi, la mia più stretta compagna di strada, se non riuscirò a descrivere una a una leggi laida per mancanza di tempo. Quindi domando scusa a chi vede male o per niente e chiedetemi in privato le descrizioni, potremmo riconnettarsi anche in un secondo tempo. Ora provo a condividere lo schermo e quindi le slide. ecco, vediamo, un po' dovrei essere riuscita. Bravissima Marti. Però ecco, non riesco a capire come o ingrandire lo schermo. In basso a destra ci dovrebbe essere la modalità presentazione, uno dei tastini in basso a destra. Voi vedete le mie slide in questo video? La vediamo, sì. Bene. Sì, sì, sì. Spero poi di riuscire ad andare avanti. Sì, benissimo. Allora, nella prima slide ho voluto riprendere quella parte. del secondo manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nell'Unione Europea, di cui qualcuno ha già parlato prima. Sono quei punti in cui si parla dell'accesso all'informazione e alla comunicazione e quindi è proprio l'argomento di cui ora abbiamo da parlare. E si parla, in questi punti, delle tecnologie dell'informazione, del fatto che occorra comunicare in tutte le lingue, in tutte le modalità e i formati possibili, che ci sia possibilmente un servizio di intercattariato nella lingua dei segni, oltre che un servizio di sottotitolazione come quello che abbiamo oggi. e questo è un neo del nostro seminario. Il fatto che non sia presente con noi un interprete da remoto, perché noi lavoriamo per che l'accessibilità sia a 360 gradi, sia un'accessibilità inclusiva, perché tra le persone che hanno difficoltà uditive, c'è chi tratta i sottotitoli e chi invece i segni, e chi anche li utilizza entrambi. Ci sono sistemi audio di induzione magnetica. Io oggi, per ascoltarvi meglio, ho collegato al mio computer una cassa che porta apparecchi acustici. Sono una persona con un deficit uditivo della nascita, ma ben compensato con apparecchi acustici. Ma non bastano gli apparecchi. E una cassa mi aiuta. C'è l'assistenza nella lettura labiale. Ci sono informati di facile lettura, i pittogrammi o anche le vignette, come vedremo tra poco. Ci possono essere delle assistenti alla comunicazione che possono affiancare una persona. Se fosse collegata a noi una persona sorda o cieca, avrebbe bisogno di una persona proprio a fianco, che con la listatile, con l'alfabeto malossi, tradurrebbe direttamente. Ci sono informati tra i da, c'è la comunicazione aumentativa, quindi simboli, inbook e tutti gli altri, WPL, se mi sembra che si chiamino. E ci sono informati elettronici. Li vedremo tra la facendo. In questa seconda slide ho voluto riportare delle vignette che nel 2013 apparvero a Milano nelle 25 biblioteche milanesi. Oltre che in librerie, negli ospedali erano 99 vignette sul tema della violenza sulle donne. La mostra si chiamava No al silenzio, basta violenza sulle donne, di Corvo Rossi, un filologo e satirista, Furio Sandrini, che aveva un'intuizione straordinaria e organizzò per circa un mese e mezzo incontri, conveni, performance e che più ne ne metta nelle biblioteche e in altri luoghi della cultura milanese. Fu proprio allora, era il 2013, che era settembre, ottobre, primi di novembre, che io iniziai a occuparmi del tema della violenza sulle donne agita appunto su chi ha una disabilità, una fragilità, perché mi cercarono donne con disabilità vittime di violenza e però io non sapevo nulla della violenza di genere, pur avendola vissuta, perché quando avevo circa 25 anni subì una forma di violenza, ma solo ogni anno dopo ho riconosciuto quell'esperienza come un'esperienza di violenza che ha anche cambiato per certi versi il corso della mia vita professionale, perché ero un professore universitario. Andiamo oltre. Costruire percorsi accessibili per donne con disabilità per che possano uscire dalla spirale della violenza implica sensibilizzazione, conoscenza e informazioni comprensibili e accessibili, orientamenti e comunicazione attraverso strumenti e canali praticabili, accessibili, l'accoglienza corretta della persona negli spazi, nei tempi e nei modi adatti. E tra i modi ci sono anche le forme di comunicazione. Occorrono sostegno e accompagnamento nel percorso perché spesso una donna con disabilità da sola non ce la fa. Vorrei dire anche un uomo con disabilità vittima di violenza perché io non voglio dimenticare la violenza abilista non solo quella di genere che colpisce anche gli uomini con disabilità quanti. Senza un sostegno non ce la prendono neanche coloro che prendono un carico che è vittima di maltrattamenti discriminazione e violenza. Occorre poi un supporto specialistico nella ricostruzione del progetto di vita. Vorrei proporvi anche questa visione che ho elaborato in questi ultimi anni da disability da disability e mi viene da dire più da accessibility manager perché ho a cuore proprio l'accessibilità che saranno da abbandonare le categorie sordi ciechi disabili intellettivi disabili motori io li abbandonerei tutti sapete perché se ragionessimo in termini di accessibilità e ponessimo al centro quel logo che nel 2015 è stato introdotto proprio dall'ONU pensate a quel logo dell'omino vitruviano che ricorda un po' anche i simboli della comunicazione aumentativa se ci pensate questo logo che venisse collocati in quei centri antiviolenza realmente accessibili o che almeno lavorano in questa direzione insieme ai simboli di ciò che garantisce in quella situazione specifica l'accessibilità quindi le mani che indicano un servizio di interpretare attuali piuttosto che il simbolo del braile se ci sono puscoli o altri materiali in braile dopo dopo abbiamo anche della mascherina certo sopra quella mascherina oppure formati audio l'abbiamo messo lì sopra oppure se c'è un sistema di induzione magnetica per i portatori di apparecchi acutici o di che dell'accessibilità qualche problema tecnico nell'audio sono presenti dei testi accessibili dei testi i torizi facili da leggere o i simboli, quindi questo sarebbe notevole. Volevo mostrarvi poi la ruota del potere del controllo della versione illustrata. La conoscerete in tanti immagini questa ruota che per me stessa, nella versione testuale, quindi quella sinistra, è stata un'illuminazione. Mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto scoprire le molteplici forme del maltrattamento, dell'abuso, della violenza, della discriminazione. E negli Stati Uniti, fin dal 2006, di Prope, scusate non so l'inglese, un'organizzazione straordinaria, ha realizzato la versione illustrata di questa ruota, che è uno strumento per rendere tutti consapevoli di cosa sia la violenza, perché altrimenti si pensa che la violenza è quando c'è un abuso sessuale. Quello è proprio una parte del mondo della violenza, è anche minore rispetto a quell'enorme varietà appunto di forme di violenza. Questa ruota nel 2018, negli Stati Uniti, è disponibile anche in formato video list, nel senso che ricercandolo online, cliccando sopra ogni sticchio, si apre un video in lingua dei segni, che spiega cosa sia l'intimidazione piuttosto che un abuso emozionale, piuttosto che l'isolamento, la costruzione e così via. Nel 2015 uscì questo video, non so se lo conoscete, è un videodocumentario con sottotitoli e audiodescrizioni, che venne realizzato grazie all'associazione di Laura Raffaele per il secondo workshop nazionale su violenza e donne con disabilità, organizzato dalla Rete Antiviolenza di Perugia, che porta i suoi saluti a noi oggi, perché mi hanno comunicato che non potevano essere presenti. Paola Palazzoli e questo video racconta le storie di otto donne francesi con diverse disabilità che si raccontano direttamente. e una donna anche in lingua dei segni, Chantal, presente nella foto. C'è questa frase dall'articolo di Simona Lanzoni, che ha presentato in uno dei suoi importantissimi articoli della sessione di informare un'esercitazione dedicata ai temi che ci stanno a cuore. L'accessibilità dovrebbe essere garantita per qualsiasi comunicazione rivolta alla cittadinanza, e la mancanza di essa produce discriminazione, e la discriminazione è essa stessa una forma di violenza. Voglio citare poi due iniziative artistiche a cui ho preso parte e che ho contribuito a realizzare, a far sì che si realizzassero, uno spettacolo teatrale e un laboratorio per realizzare una panchina rossa tattile. Insieme a Felice Tagliaferri, scultore non vedente, sensibilissimo su questi temi, che in questi mesi ha realizzato anche una scultura da toccare, che è la pietà rivaltata, in cui è Cristo che sostiene Maria, e vorrà realizzare dei laboratori per rendere più consapevoli i cittadini e le cittadine di questi temi, animando appunto delle iniziative. Lo spettacolo invece era quello delle sedie, uno spettacolo in cui sono presenti storie di vittime di violenza, tra cui anche donne con disabilità. Martina, ti chiedo di arrivare alle conclusioni. Vado oltre, cercando di andare più veloce. Hai due minuti. Sì, va bene. Per comunicare con una persona sorda, presente in uno dei materiali di cui si parlava prima per la formazione. No, questo no. Ecco, volevo fare riferimento, indubbiamente, al 15-22. Il 15-22, sapete tutti che cos'è, è il numero antiviolenza e antistalking. I vari messaggi che ho raccolto in questa slide sono reali e uno dice per tantissime donne rimanere a casa non è un invito rassicurante. Il numero nazionale dei centri antiviolenza e attivo, se hai bisogno, chiama il 15-22. Ma un messaggio così non fa capire che il 15-22 è un numero a cui si può anche accettare. E questo è grave dal mio punto di vista. Il fatto che le informazioni non passino chiare, univoche e non arrivi facilmente a tutti. Il 15-22 è un numero da chiamare, ma anche una chat è una app per i telefoni, nei dispositivi, sia Android che iOS, è grave. Ma oggi ci sono tecnologie che consentono di abbattere le barriere comunicative in continuo sviluppo, anche per le persone sorde, per avere, per esempio, una interprete di lingua dei cenni istantaneamente al telefono. E se oggi avessi avuto tempo, vi avrei chiamato l'interprete immediatamente per mostrarvela. Ma mancando il tempo non posso farlo. Ero d'accordo che avrei appunto mostrato questo sistema con un'app che è di visita. Volevo proporvi di avviare la costruzione di un manifesto della comunicazione accettibile per questi temi. Questa è una proposta che io lancio oggi a chi è presente, oltre che al gruppo di pratica, sulla falsariga di quello che a Bologna è stato realizzato proprio direttamente il decalogo della comunicazione accettibile per favorire l'inclusione. Chiudo ringraziandovi e indossando una mascherina per direvi come oggi sia veramente drammatica la comunicazione per noi, persone con viabilità. Ma per fortuna ci sono aziende, associazioni, in realtà che stanno lavorando lacrimente per farci che si arrivi a queste mascherine solidali, amichevoli e che rendono possibile l'accessibilità nella comunicazione, non solo per le persone sordi, ma per tutti. Fa che l'accessibilità è la parola d'ordine per me, per tutti, indistintamente. La lingua dei temi non è solo per le persone sordi, ci sono persone con lo spettro dell'autismo che usano i segni e che sono facilitati. I simboli della comunicazione aumentativa aiutano anche le persone straniere, ad esempio. E così. Io vi ringrazio dell'ascolto e faccio la parola a Pier. Grazie Martina, grazie veramente. Abbiamo capito con questo intervento quanto sia importante la parola, uso questo termine ovviamente in forma simbolica, ovvero quanto sia importante la comunicazione. È attraverso la comunicazione che si costruiscono relazioni di senso, che si cresce, ci si educa, si apprende, così via. E quanto quindi sia importante veramente riflettere su una comunicazione che sfrutti appunto i sistemi di multicanale e molte differenti modalità di comunicare con le persone e con le donne, in questo caso, in modo particolare. E quante forme diverse ci siano di comunicare. Non ultima, quella del corpo, che la LIS vede perfettamente impegnata. Grazie Martina. Io chiedo a Carla Quinto a questo punto se è riuscita a ricollegarsi e se può intervenire. Sì, grazie. Scusate, ma sono in hot spot purtroppo perché non sono né in studio né a casa. Spero che non ricada la linea. Ecco, purtroppo dovremmo chiudere l'incontro alle 13.30. Avevo anche il compito di tirare le conclusioni, ma a questo punto penso che non le tirerò perché appunto siamo molto in ritardo. le chiedo quindi e mi scuso di questo di essere più breve possibile. Grazie. Bene, d'accordo. Allora, dicevamo quanto nelle aule giudiziarie ancora permangano una serie di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne che subiscono violenza. immaginiamo se a questi pregiudizi si vanno a sommare anche i pregiudizi che colpiscono le donne con disabilità. E a questo, a mio parere, si aggiunge anche un approccio assistenzialista che ruota attorno alla disabilità e purtroppo si riflette anche sulla legge italiana. Un primo dato che già ha sottolineato e hanno sottolineato diverse relatrici che sono intervenute prima di me è sicuramente l'invisibilità, cioè l'esistenza di un sommerso significativo. Se noi pensiamo che soltanto il 10% delle donne con disabilità denunciano violenze a fronte di un sommerso assolutamente di molto maggiore, quando lo stesso Istat ci dice che per le donne con disabilità vi è, immaginiamo anche soltanto per fare un esempio, per la violenza sessuale, il doppio del rischio di subire una violenza sessuale rispetto alle altre donne. E il secondo aspetto che già è stato ampiamente sottolineato da chi mi ha preceduto è proprio il fatto che sebbene l'Italia e molti stati contraenti abbiano recepito i principi sovranazionali contenuti sicuramente nella Convenzione ONU contro l'eliminazione della violenza per le persone con disabilità a questo recepimento non è seguito purtroppo l'applicazione concreta di questi principi e l'introduzione di strumenti che potessero essere che potessero rendere reali e efficaci le politiche nei confronti delle persone in favore delle persone con disabilità. Purtroppo a distanza di dieci anni dall'adesione da parte dell'Italia dalla Convenzione ONU ancora la Convenzione non viene correttamente applicata e soprattutto non viene sentita dalla società civile. E questo è stato messo in risalto sicuramente dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità che è appunto l'organo di controllo della Convenzione ma è stata non solo il Comitato ma è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani la CEDU che si è espressa in numerosi casi proprio sul mancato rispetto da parte degli stati contraenti degli obblighi positivi cui sono obbligati. Sappiamo che in base al diritto internazionale ed europeo sui diritti umani l'accesso alla giustizia è diciamo obbliga tutti gli stati a garantire il diritto di ciascun individuo di poter adire il tribunale e quindi l'accesso alla giustizia incorpora in sé una serie di diritti umani fondamentali come il diritto a un ecoprocesso che vuol dire che tutte le parti devono essere messe in condizioni di uguaglianza e reciprocità nel potersi difendere e nel poter essere tutelati questo è il riferimento ai sensi dell'articolo 6 della CEDU e dell'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Penso ancora al diritto ad un ricorso effettivo sempre ai sensi dell'articolo 13 CEDU e 47 della Carta. Ecco cosa vuol dire accesso alla giustizia? Vuol dire accesso a tutte le fasi del procedimento e del successivo processo. Ad esempio accesso e già Martina l'ha accennato a tutti quei sistemi e a quelle tecnologie di supporto al metodo di comunicazione orale scelto dalle donne stesse. inoltre un altro problema è l'elevato grado di dipendenza di molte donne con disabilità da chi si prende cura di loro che molto spesso è anche la persona che può agire la violenza. In questo caso è estremamente importante garantire uno spazio sicuro e riservato comunque una comunicazione diciamo indipendente che possa consentire alla persona di segnalare la situazione che vive e poi garantire abbiamo detto in tutto il corso della giornata il tempestivo invio al centro antiviolenza che anche esso deve essere in grado di accogliere in modo corretto la persona e le proprie specifiche esigenze. Ci dovrebbe essere e non c'è purtroppo una formazione diciamo adeguata su quella su quella tria del genere disabilità e consapevolezza che dovrebbe essere diciamo promossa nei confronti di tutte le persone che lavorano in capo all'amministrazione della giustizia includendo anche la polizia il personale penitenziario introdurre dei protocolli operativi delle forze dell'ordine immaginiamo una situazione di violenza intrafamiliare il poliziotto che si trova a intervenire su chiamata della persona presso l'abitazione se si trova di fronte a una persona che ha delle specifiche esigenze se non ci sono dei protocolli operativi si rischia di vanificare l'intervento del poliziotto che già ha in situazioni dove non ci sono donne con disabilità è estremamente carente proprio perché manca una formazione adeguata e vi è da dire che l'esclusione e l'isolamento delle donne con disabilità e la mancanza di ausili per la comunicazione e la mobilità aumentano la vulnerabilità della persona e contribuiscono soprattutto a infondere un senso di impunità nei confronti di chi agisce la violenza analizzo e cito per brevità soltanto due questioni problematiche legate proprio alla messa in protezione della vittima quindi alla fase pre-procedimentale e poi in qualche modo che ha qualcosa in comune anche sulla fase successiva che è quella dell'assistenza all'interno del processo in fase pre-procedimentale è necessario ad esempio stendere stilare correttamente una denuncia querela quindi riportare in modo dettagliato e anche da un punto di vista di coerenza temporale una serie di fatti reiterati di violenza immaginiamo in una situazione in cui la violenza sia reiterata ebbene se noi già abbiamo un dato oggettivo comune a tutte le donne vittime di violenza che è proprio la difficoltà a collocare esattamente temporalmente i fatti e la difficoltà anche a raccontare i fatti nel dettaglio data proprio l'elevata traumaticità di questi fatti immaginiamo se a questa difficoltà che è comune a tutte le donne che subiscono violenza si va ad assommare anche la mancanza o la carenza di sistemi di comunicazione efficaci per la persona con disabilità e questo si può riflettere anche in fase processuale i reati che attengono la violenza di genere sono reati che si fondano quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa dal reato della vittima del reato e quindi è ovvio che la testimonianza della vittima è un momento centrale del processo in questo caso se anche in questo caso il giudice è chiamato a valutare la credibilità non solo esterna ma anche interna del racconto della persona quindi l'accuratezza la precisione il dettaglio ora immaginiamo quello che succede se già un giudice non adeguatamente formato sul tema della violenza può farsi condizionare da una serie di stereotipi e pregiudizi che in generale colpiscono le donne vittime di violenza vi faccio qualche esempio se subiva violenza perché è rimasta quindici anni con lui sta denunciando perché vuole trarre dei vantaggi economici in sede di separazione lui maltratta ma lei sicuramente l'avrà provocato ecco se a questo si vanno a sommare anche quei pregiudizi comuni alle donne con disabilità tutto questo può portare a una valutazione negativa della credibilità delle dichiarazioni della persona negativa perché il giudice non reputa credibile perché conosce soltanto il suo metodo che è quello più idoneo per la mancanza ad esempio di strumenti di comuni che agevoli o che facilitano la comunicazione se diciamo nelle grandi procure il lavoro dei centri antiviolenza la maggiore disponibilità di strumenti la maggiore formazione dei magistrati sul tema diciamo può attenuare il pericolo immaginiamo quello che possa succedere nelle procure più piccole dove mancano sezioni specializzate sul tema di giudici e dove ci può anche essere diciamo la carenza di disponibilità di questi mezzi in questo caso inutile dire che ci sarà un accesso alla giustizia sicuramente impari per le donne che vivono su questi territori rispetto a donne che vivono su territori più grandi un'altra problematica che vorrei sottolineare è quella quando diciamo il caso di violenza sessuale accusi sessuali che possa subire una persona con disabilità purtroppo c'è questa prassi che io ritengo negativa all'interno dei tribunali di fare quasi diciamo di fare un parallelo quasi con i soggetti minorenni e quindi sostanzialmente il pubblico ministero che riceve la denuncia delega ad un perito a un consulente tecnico la necessità di verificare la capacità a testimoniare l'idoneità a testimoniare della persona prima ancora di valutare la credibilità delle sue dichiarazioni questo questa prassi che purtroppo rende fallimentare molti processi ad esempio contro soggetti minorenni perché è proprio una prassi similare va assolutamente combattuta perché in realtà non si può delegare a un consulente tecnico che molto spesso non ha neanche una formazione adeguata sul tema di valutare se la persona si è adonia a testimoniare ma il giudice che è appunto perito peritorum cioè si avvale di consulenze di ausiliari soltanto qualora non abbia una competenza ma è solo il giudice che deve decidere deve assolutamente si deve assolutamente consentire alla persona di non essere sottoposta a questo vaglio di controllo della capacità testimoniare anche perché la normativa prevede che la perizia non sia mai una prova decisiva trattandosi appunto di un mezzo di prova neutro che è sottratto la disponibilità delle parti e soprattutto rimesso la discrezionalità del giudice mi spiego meglio bisogna eliminare tutte quelle barriere che non consentono al giudice di poter valutare la credibilità delle dichiarazioni di una persona anche qualora questa persona sia stata ritenuta incapace di testimoniare per delle caratteristiche personali e quindi il giudice utilizzando quelle regole consuete di formazione del proprio convincimento deve assolutamente distinguere le vulnerabilità presenti nelle diverse vittime non standardizzando l'intervento ma adeguandolo caso per caso in ragione della sua unicità e delle esigenze specifiche della persona quello che dico è che bisogna porsi in modo paritario nei confronti di vittime che possono essere vulnerabili per la tipologia di reato subita e quindi vulnerabilizzate dalla violenza oppure possono essere vulnerabili in ragione di altre caratteristiche penso all'età penso a non diciamo utilizzo il termine perché il termine normativo infermità mentale psichica che non mi trovo d'accordo però diciamo così tutte quelle con tutte quelle caratteristiche personali che possono dare vita ad una difficoltà e quindi ad una vulnerabilizzazione della persona chiudo dicendo che la recente normativa non penso solo al codice rosso penso anche al decreto femminicidio nonostante siano provvedimenti molto limitati perché hanno un'ottica securitaria un'ottica repressiva che non mi vede diciamo d'accordo va dato comunque il merito di a loro così come alla direttiva delle vittime sul reato direttiva europea ventinove del duemiladodici di aver comunque di essersi mosti in direzione di potenziare gli strumenti di protezione per le vittime di reato vulnerabili soprattutto nel corso del processo penso al diritto alla vittima ad un'adeguata assistenza linguistica al diritto di avere uno spazio separato e quindi l'assenza di contatti tra la vittima e l'autore del reato molti tribunali si stanno oggi dotando di spazi separati di zone di attesa separate per evitare appunto un eventuale incontro dell'imputato che legittimamente segue il processo perché lo riguarda in conclusione sicuramente c'è ancora tantissimo da fare l'unione europea l'italia gli stati membri dovrebbero perfezionare ancora di più la propria legislazione e soprattutto concentrarsi su politiche efficaci che includano una specifica attenzione alle donne e bambine e bambini con disabilità e ovviamente tutto questo in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità proprio per la loro competenza specifica mi fa piacere chiudere citando un concetto che già Martina ha ampiamente sottolineato e che anche la Corte Edu ha affrontato proprio nel tema di accesso alla giustizia che è l'accessibilità l'accessibilità è proprio il concetto chiave perché accessibilità vuol dire garantire alle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri l'accesso all'ambiente fisico all'informazione alla comunicazione e a tutti i servizi e le attrezzature vi faccio l'esempio di un'ottima pratica che per esempio è nata in Spagna e dove la Guardia Civil ha realizzato proprio una guida specifica destinata agli agenti di polizia per aiutarli proprio a intervenire a fornire servizi migliori alle persone con disabilità mentali ed è proprio diciamo su questa scia che è nata e prosegue sicuramente proseguirà il lavoro di Fisch con B-Free che per noi è una grandissima opportunità di costruzione di pratiche nuove per tutte le donne che seguiamo grazie 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 Carla spero di essere stata veloce più di così sì sì no sei stata velocissima anzi mi dispiace perché succede spesso così che le ultime a parlare sono le più penalizzate niente io ho sottolineato ancora la dico solo così molto rapidamente proprio per non portare via altro tempo che anche dalle tue parole che cosa scaturisce che la narrazione è fondamentale di quello che è accaduto che per poterla attuare nel miglior modo possibile occorre avere un'attenzione particolare ai sistemi di comunicazione alle metodologie di comunicazione di relazione che si instaurano all'interno del percorso del lungo percorso processuale e contemporaneamente però bisogna anche agire sulle capacità di interpretazione del giudicante ossia del giudice che è in quel momento parte fondamentale dell'intero percorso e mi viene da dire che molto probabilmente gli stessi giudici e le giudici perché non ci sono solo uomini andrebbero formati quindi questo è un elemento fondamentale su cui molto probabilmente bisognerebbe intervenire proprio perché ed è questa la parola chiave che risalta fuori e che ha pronunciato Oria prima non possiamo standardizzare ma è la stessa parola che in qualche modo anche noi professionalisti del progetto di architettura utilizziamo cioè non è più possibile standardizzare non si può più standardizzare partendo appunto dalle molte convenzioni dalle molte carte dalla stessa nostra carta costituzionale perché non esistono soggetti standardizzati la nostra è una società appunto complessa e ognuna e ognuno di noi è differente e richiede ha esigenze diverse e desideri anche diversi che stanno sullo stesso piano delle esigenze per quanto mi riguarda e li considero in qualche modo delle azioni di pre-politica rifacendomi a vecchi pensieri femministi detto questo e vista l'ora è l'una e quaranta ci sarebbero alcune interventi che sono stati richiesti il primo di Rosaria Duraccio che chiedo se vuole esprimersi e alle coraggiose che continueranno ad essere in presenza di ascoltare poi c'è Costanza Aloni che vuole chiedere appunto perché quando si parla di discriminazione giuridicamente socialmente eccetera ancora oggi le persone con disabilità non vengono citate poi chiede un intervento anche Maria Teresa Lattajoli poi c'è una una frase che riporta Simona Lancioni che chiedo anche a lei di intervenire ed esprimerla quindi con quest'ordine se volete riattivare i microfoni coloro che ho chiamato eccomi ecco grazie grazie Rosaria nulla praticamente io volevo intervenire a proposito di quando ha parlato Oria Oria giusto nel parlare insomma della violenza e di come spesso gli uomini che commettono violenza sulle donne con disabilità vengono anche giustificati dal fatto che hanno questo lavoro lavoro di cura insomma che si occupano della cura e volevo anche sottolineare il fatto che spesso si pensa alla violenza ecco sempre come una violenza sessuale una violenza fisica ma ci sono quelle piccole violenze psicologiche che a volte nascono proprio dal rapporto marito moglie che per quanto possa essere insomma alla fine il marito più passionevole bravo del mondo ha comunque i suoi difetti e dico questo perché perché poi quando subisci quelle piccole violenze dovute anche alla stanchezza dovuta a tutto quello che volete e provi ad esternare la tua come dire insomma il tuo malessere ma devi capire tutto quello che fa per te non è poi cioè devi anche capire se ha questi scatti di ira però poi diversamente nessuno capisce quando sei tu ad avere gli scatti di ira quando sei tu che invece sei stanca di dipendere sempre dagli altri dalle altre situazioni e invece questo stato di ira non viene giustificato anzi perché ti lamenti e con questo chiudo grazie grazie Rosaria chiedo a Costanza Aloni sei ancora presente non c'è Maria Teresa Lattajoli aveva chiesto un intervento e non ha scritto nulla eccomi ecco grazie scusate dunque sì mi volevo rifare ad Oria mi sembra e a Martina dunque l'accettazione lì in ospedale tutto il rifare tutto il percorso della donna che subisce violenze va affrontato su diversi aspetti perché in base alla sua disabilità ehm anche gli operatori del centro antiviolenza devono avere dei presupposti una formazione dietro per poter dare il giusto appoggio anche loro essendo formati ma magari non sono formati per quel tipo di disabilità e eh proprio essendo in contatto con il centro antiviolenza di Perugia ehm ho sentito che hanno difficoltà proprio in questo senso per quanto riguarda la formazione eh e l'accoglimento di queste persone disabili perché anche se eh devono mandarli in certi posti protetti non hanno un posto a loro adibito per le loro esigenze eh per tutto ciò che comporta anche per distaccarsi dalla famiglia stessa eh per poter avere i loro ausili per poter avere un ambiente di vita a consono per il tempo dovuto per fare quel tipo di percorso eh ci vuole una cosa protetta una formazione un percorso adatto a loro e sarebbe giusto come poter fare anche un protocollo come diceva l'ultima relatrice eh un protocollo che riguardi anche eh la polizia eh tutti chi va chi va a interagire con queste persone in poche parole devono avere una formazione adatta per la disabilità ehm che hanno davanti per poter affrontare sia la situazione in essere che la disabilità stessa questo voglio far presente grazie 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 a lei eh chiedo a Simona Lancioni eh grandamente io ero intervenuta perché mi sembra che ci sia mi sentite? sì sei un po' bassa ma si sente io ero intervenuta per quando c'era l'intervento di Oria Gargano non so se si è pronunciato bene il cognome perché era tutto incentrato sulla violenza di genere ora il discorso è che io tento il discorso che cerco di sottolineare è questo prima della violenza nei confronti delle donne con disabilità non se ne parlava proprio ora si è iniziato a parlarne ma ci si concentra su quella di genere va benissimo perché le donne con disabilità in quanto donne sono soggette a questo tipo di violenza però si tende a scordare che le donne con disabilità sono soggette anche alla violenza bilista cioè quelle che subiscono non in quanto donne ma in quanto persone con disabilità e anche di queste dobbiamo avere consapevole perché per quanto dolorosa possa essere anche le donne con disabilità le altre donne possono essere autrici di violenza e anche di questa violenza dobbiamo occuparci anche quando è agita sugli uomini con disabilità era semplicemente questa specificazione ma poi ho visto che il tema l'ha ripresa anche Martina e la ringrazio per averlo fatto acceno brevemente proprio nei giorni scorsi ho cercato un caso a Mantova di una donna che subiva violenza dalla sorella per quattro anni che la picchiava che la insultava perché voleva che lei andasse a vivere in una struttura dopo quattro anni i servizi si sono resi conto di quello che stava succedendo cosa è successo la sorella è stata sottoposta a custodia al catolare quindi la colpevole la rea ma la donna con disabilità è finita nella struttura quindi alla violenza della sorella si è aggiunta la violenza istituzionale che non ha saputo dare una risposta personalizzata permettendo alla donna con disabilità di permanere nella sua abitazione dove faticosamente aveva cercato di restare quindi c'è la violenza di genere la violenza abilista e una violenza istituzionale che vanno a convergere tutta sulla stessa persona tutto qui grazie grazie Simona sei sempre molto chiara niente posso dire una cosa veloce sì a Simona volevo dire che io mi dovevo occupare di quello il tempo era poco ma ovviamente ha ragione perfettamente siamo in un contesto di discriminazioni multiple e violenze multiple e all'altra donna che ha parlato della violenza psicologica anche lì volevo dire che il tempo è poco ma nei manuali nella letteratura internazionale la violenza di genere è fisica psicologica sessuale economica dunque quello che lei ha riportato come dato è assolutamente compreso scusate soltanto questo ho finito grazie grazie niente come dicevo poc'anzi avrei dovuto tirare le conclusioni le conclusioni sono veramente molto complesse perché sono state affrontate tantissimi argomenti nella mattinata e fra l'altro da diverse angolature mi sarebbe piaciuto riuscire a concludere estrapolando dalle varie relazioni non tanto i temi su cui ancora è necessario riflettere che sono tuttora molteplici che vanno dall'ambiente di vita proprio concretamente quello costruito vanno fino a tutti gli ambienti che noi appunto viviamo nell'arco anche banalmente di una giornata fino ai temi della violenza ai temi della violenza che come abbiamo visto ha tante e diverse facce fino al tema di come contrastare questa violenza alle in pratica alle molte tematiche che riguardano la giustizia ma anche la giurisprudenza ma anche le normative ma soprattutto la presenza di politica l'autorappresentanza delle donne con disabilità in pratica la famosa parola che continua a circolare ha continuato a circolare nelle molte relazioni dell'empowerment però mi sarebbe appunto piaciuto terminare estrapolando quegli aspetti positivi che dalle relazioni sono scaturiti cioè tutti quegli aspetti che richiamo sul sito va bene forse è la cosa migliore perché in questo mio marito mi caccia di casa esatto il mio no perché per fortuna non c'è ho deciso di fare questa riunione da casa non a caso e quindi lui a lavorare mia figlia è fuori e io sto benissimo quindi niente ringrazio tutte tutti i partecipanti ringrazio chi ha curato la sottotitolazione ringrazio le gentilissimi ospite di FPA ringrazio Fischer nuovamente tutto il gruppo di lavoro attorno a donne con disabilità e soprattutto Simona che continua a seguirci sempre con attenzione e precisione grazie a tutte di nuovo e buona giornata grazie T nieupera grazie buon lavoro grazie arrivederci grazie mille grazie a voi buona giornata arrivederci grazie arrivederci a tutti grazie grazie Ciao, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie davvero. A presto. Ciao Martina, ciao Sara. Ciao. Ciao Simona, che bella averci vista. Anche a me l'ha fatto piacere. Ciao a tutte. Ciao Piera. Ciao Sestina. Grazie a Piera, che è una moderatrice straordinaria. Davvero. Grazie. Grazie. È vero. Ok. Ciao, 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 vado. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.